Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere la requisitoria del processo Cavallini del procuratore generale Nicola Proto che si è svolta a Bologna il 14 giugno del 2023. La vista palestinese non c'entra nulla. Buon ascolto. Poi giriamo eventualmente lo schermo. Si può girare, guardi così, così lo vedete bene. Io lo vedo qua e le parti li conoscono. Eventualmente ci stringiamo un po'. Però lì c'è un gradino, deve stare attento che non caldo. Se no, casomai, signora, se non vede bene, quando c'è la parte, perché sono pochi. Sì, sono due o tre documenti per dare un'idea di quello che è successo, soprattutto con riferimento ai documenti acquisiti presso l'Aise relativi all'operazione Streila, tanto per essere chiari. Allora, la discussione ovviamente, diciamo, ricalcherà quelli che sono i motivi d'appello. Siamo in fase d'appello, il perimetro è dato dall'impugnazione effettuata dalla difesa. e quindi la discussione sarà orientata a prendere in esame il motivo d'appello e a controdedurre rispetto allo stesso, cioè per capirne la fondatezza o meno rispetto al tema di prova. Nel processo d'appello, la parte ha introdotto in maniera massiccia la pista alternativa come primo elemento di discussione, e cioè si dice questa vicenda non è riconducibile alla destra eversiva, quindi non soltanto all'imputato Cavallini, ma ai soggetti che già in precedenza erano stati condannati in via definitiva per la strage del 2 agosto, ma a tutt'altra matrice, tutt'altra natura. E si spendono molte pagine, producendo anche alcuni documenti a sostegno di questa tesi. E questo, diciamo, è il primo filone. Il secondo filone invece riguarda più specificamente la posizione di Cavallini e si va ad attaccare quelli che erano i pilastri delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Mambro, Fioravanti e Cialardini, quindi la deposizione di Massimo Sparti, poi ci entreremo nel merito, la telefonata della Loretti, il tema dell'alibi e il tema del movente dell'omicidio di Francesco Mangiameli. E questo, diciamo, è il secondo braccio dei motivi d'appello. Il terzo filone introdotto riguarda invece i rapporti tra Cavallini, Massimiliano Facchini, poi spiegheremo chi è Massimiliano Facchini, e Picciafuoco. E infine, diciamo, si riprende un po' il tema alternativo con l'introduzione della tesi dello scoppio accidentale. Scoppio accidentale di un ordigno trasportato dal soggetto ignoto, che poi sarebbe quello, diciamo, i cui resti sono stati rinvenuti nella tomba di Maria Freso. Questi sono i quattro temi principali. Poi c'è l'altro appello che è più tecnico e su cui, diciamo, entrerò nel dettaglio una volta terminato questo che è, diciamo, il tema più, che riguarda più strettamente il fatto. E allora andiamo al primo punto, la pista alternativa. La pista alternativa è una pista che la difesa, diciamo, ha sostenuto con grandissima forza, non soltanto nel processo, ma, diciamo, è stata sempre in materia di dibattito, perché si diceva una cosa, la pista alternativa non è stata scandagliata in quanto vi sono dei documenti che sono coperti dal segreto di Stato quei documenti non sono mai stati resi ostensibili e in quei documenti c'è la verità sulla strage di Bologna. Questo è, diciamo, il motivo riportato in primo grado. Fu fatta una richiesta alla Corte d'Arsise di Bologna di acquisizione di questi documenti, respinta, ed è stata riterata in questa sede. Su che cosa si basa, qual è l'antefatto sostanzialmente? L'antefatto è questo, che nel 1979, nel novembre del 1979, a Ortona, in provincia di Chieti, vengono fermati tre cittadini italiani, che fanno parte dell'area degli autonomi, e vengono fermati e arrestati, perché trovati in possesso di due lanciamissili, e quindi di materiale bellico fondamentalmente, e a seguito delle prime indagini della Tribunale di Chieti, viene tratto in arresto anche il cittadino giordano Abusale, che viveva qui a Bologna, viveva proprio accanto al Palazzo di Giustizia, in via delle Tovaglie. Che cosa sostiene la difesa? Che questo arresto è un arresto che viene a ledere e a violare un patto, il cosiddetto Lodomoro, intercorso tra l'autorità italiana e le autorità palestinesi, all'epoca ancora non riconosciute, in forza del quale, di questo accordo, che sarebbe stato sponsorizzato proprio da Aldomoro, diciamo l'Italia era un territorio di passaggio, cioè si poteva fare sostanzialmente quello che si voleva, in ragione della causa palestinese, i palestinesi avevano libero transito nel territorio dello Stato, in cambio dell'assenza di azioni terroristiche in Italia, cioè il territorio italiano veniva salvaguardato, ma a una condizione che diventasse una sorta di corridoio, siccome era stato arrestato Salè, questo violava il patto e questo dava adito ad una ritorsione da parte del, soprattutto del fronte popolare di liberazione della Palestina, che era una frangia dell'OLP, era aderente all'OLP, che è l'organizzazione della liberazione della Palestina, capeggiata come tutti noi sappiamo, d'ara fatta, all'interno c'è questa corrente sostanzialmente, che faceva capo a Pontizio, che si chiamava George Abbas. A sostegno di questa tesi, che cosa produce la difesa negli atti d'appello? Produce alcuni documenti, sono in particolare una lettera dell'8 marzo 1980 della Questura di Bologna, in cui si lamenta la preoccupazione che il fronte tenterà in qualche maniera delle azioni di ritorsive nei confronti del nostro Paese, una nota del 26 aprile 1980, che poi guarderemo bene nel dettaglio, in cui si ribadisce la necessità di intervenire in qualche maniera sulla posizione di Salè, pena le azioni ritorsive, e in questo, diciamo, in questo cablogramma del 26 aprile, si dava termine al 15 maggio 1980, poi si allega una nota del 13 maggio, sempre del sismico, con cui si, diciamo, prospetta questa possibilità di azioni ritorsive, ed infine una lettera dell'11 luglio 1980, proveniente dal Ministero degli Interni, dove dopo l'abbattimento del 19, che era avvenuto qualche giorno prima, diciamo, c'era questo timore che il fronte potesse in qualche maniera porre in essere un'azione ritorsiva ai fini della liberazione di Salè, che era detenuto nelle nostre patrie galere. si allega una deposizione del colonnello di Napoli, chi era il colonnello di Napoli? Il colonnello di Napoli era un ufficiale che lavorava al Sismi ed era amico e collaboratore di Giovannone, Giovannone è l'ufficiale del Sismi che era il capocentro Sismi a Beirut, quindi aveva un'area di informazione estremamente delicata e aveva lui tutti i contatti con i palestinesi all'epoca, ma non solo. Ebbene, di Napoli avrebbe riferito di aver saputo da Giovannone che c'era una possibilità di azione ritorsiva e addirittura che il fronte aveva preso contatti con Carlos e qui entriamo diciamo in una storia che diciamo vi illustro brevemente per farvi capire chi era Carlos. Carlos era il capo di un'organizzazione terroristica separata che aveva sposato la causa palestinese era un il suo vero nome Sanchez Ilic Ramirez Sanchez aveva questo nome di battaglia Carlos aveva sposato con il suo gruppo la tesi la causa palestinese e per conto dei palestinesi in varie zone d'Europa si sarebbe prestato a compiere determinati attentati ebbene in questa deposizione Giovannone avrebbe riferito a Di Napoli che il fronte aveva preso contatti con Carlos non si capisce bene a quale fine e soprattutto si era legato alla vicenda dei lanciamissili di Ortona questi sono i documenti che vi produce la difesa e allora che cosa ha fatto la procura generale sin dall'epoca del processo mandanti ha fatto un accesso all'Aise che è l'attuale ufficio che è subentato al sismi hanno cambiato la sigla sostanzialmente perché è diventata un'agenzia mentre avevano un servizio ma la funzione è sempre la stessa e abbiamo acquisito tutta quella documentazione coperta da segreto di Stato dentro la quale a giudizio dei difensori si nascondeva la verità su Bologna cioè dentro quei documenti noi avremmo dovuto trovare una sorta di rivendicazione o di annuncio di questo attentato ed è per questo motivo che era stato apposto il segreto di Stato perché perché non si doveva svelare quello che era l'accordo tra l'Italia e la Palestina risalente all'Odomor questo è il quadro e allora ce li siamo andati a prendere ma non solo ce li siamo andati a prendere ma li abbiamo anche studiati e abbiamo trovato alcune sorprese l'esame di questi documenti io ovviamente in questa sede li ho tutti riportati in una memoria che è stata depositata presso la Corte se ve li dovessi leggere tutti staremo qua fino a domani ma ve ne voglio richiamare alcuni che sono di una importanza a mio avviso fondamentale vi anticipo diciamo la fine di questo discorso da questa documentazione si capisce in maniera inequivocabile anzi si ha la prova inequivocabile che i palestinesi con la strage di Bologna non c'entrano nulla e non c'entrano nulla perché non avevano alcun interesse a mettere una bomba alla stazione il 2 agosto 1980 in quanto le loro richieste effettive sulla tutela salvaguardia sulla sorte del loro concittadino Abusale arrestato a Chieti era sicuramente stata presa in esame e a cuore dalle autorità italiane che di volta in volta come vedremo in alcuni documenti hanno rintuzzato sempre le richieste del fronte che cosa chiedeva il fronte chiedeva due cose fondamentalmente uno un trattamento giusto nei confronti di Salè due la restituzione di quei lanciamissili perché erano strumenti che diciamo di loro proprietà almeno così loro dicevano e che servivano per la loro causa e che erano solo di transito in Italia per cui diciamo questa richiesta si fondava su diciamo sulla sugli accordi precedenti a loro giudizio e per cui diciamo l'aver violato quest'accordo li legittimava fare le azioni ritorsive e allora vediamo un attimo questi documenti quali sono io li ho divisi in due grosse parti i documenti prima del 2 agosto 1980 e i documenti post 2 agosto 1980 la corrispondenza parte dal 1979 cioè dal giorno dell'arresto di Abu Salè e termina nel 1983 quindi siamo a distanza di oltre due anni dal 2 agosto 1980 e in questi due anni ma soprattutto fino all'agosto 1981 ci fu una vera e propria trattativa un interessamento una risposta italiana che toglieva qualsiasi interesse al fronte di effettuare un attacco terroristico in Italia tant'è vero come noi vedremo ci sono alcuni documenti in cui si dice sospendiamo le operazioni fino al settembre 1981 quindi siamo ben oltre la strage di Bologna ma andiamo con ordine ve ne voglio far vedere soltanto due intanto uno il primo abbiamo detto risalente al 1979 novembre 79 e diciamo è stato seguito chiedo scusa ecco questo è il documento che vi ha portato alla difesa risalente al 14 aprile 1980 in questo documento il fronte che cosa chiede faccio una premessa c'era già stata la sentenza di primo grado a Chieti perché i 4 cioè i 3 italiani più il giordano furono arrestati e processati per direttissima e vi erano 3 contestazioni il porto alla detenzione e l'importazione delle armi rispetto a queste 3 imputazioni il tribunale di Chieti c'era sentenza in atti fa cadere la ipotesi più grave di reato che era quella della importazione mantiene ferma soltanto il porto alla detenzione e condanna Salè alla pena di 7 anni tenete presente che non appena si incardina il processo di primo grado c'è una lettera agli atti firmata dalla dirigenza del fronte spedita spedita al tribunale di Chieti in cui si dice guardate che queste armi erano in transito non sono armi destinate all'Italia per cui certamente non c'è l'ipotesi di importazione nel territorio italiano e sostanzialmente questa posizione difensiva che poi sarà patrocinata dai legali in aula viene accolta dal tribunale e Salè viene assolto dal reato di importazione di armi la sentenza arriva nel gennaio del 1980 e il 14 aprile si registra questo primo documento che vi ha portato la difesa che cosa chiedono i palestinesi allora eccolo qui lo vedete qui chiedono la data approssimativa del processo d'appello e se era stata fatta l'impugnazione da parte del pubblico ministero sulla soluzione se era prevedibile uno sconto di pena per gli autonomi e se fossero concedibili determinati benefici e se la corte era orientata se la corte a pelle era orientata a rivalutare gli elementi a sostegno dell'estranità di Abu Salè nel prosieguo si rappresenta l'urgenza di avere delle risposte e il telex a seguire è quello del 18 aprile del 1980 il 18 aprile il colonnello Giovannone riscrive dicendo che c'è questa forte preoccupazione all'interno della fronte perché c'era questa forte preoccupazione e qui capiamo anche il motivo di alcune richieste di rinvio perché questo processo di Chieti in cui c'era un sostanzialmente traffico d'armi che vedeva coinvolti da un lato i palestinesi e dall'altro alcune formazioni della sinistra autonomia operaia di Apifano Bagmantri tre coinputati di Chieti non erano non facevano parte dell'area avversiva della destra ma della sinistra andava a coincidere con l'atteggiamento collaborativo che all'epoca assunse Patrizio Peci Patrizio Peci brigatista che cosa disse proprio in quel frangente proprio nel febbraio del 1980 cominciò a collaborare con la giustizia rispetto all'attività avversiva delle brigate rosse e introdusse il tema del rapporto BR-OLP che poi sarà trattato a Venezia poi ci arriviamo e di un traffico di uno scambio di una fornitura addirittura di armi dall'OLP alle BR o comunque di una diciamo una collaborazione assai stretta allora voi capite bene che queste dichiarazioni che cominciavano a trappelare o che comunque era una conoscenza dei palestinesi li ponevano in serie imbarazzo perché con dichiarazioni di questo genere con un processo in corso di quella portata è evidente che ci sarebbe stato anche un condizionamento fattuale rispetto a delle dichiarazioni che stavano arrivando e un processo che era in corso per cui si poneva il problema di spostare questo processo cioè il processo non doveva farsi in quel momento storico perché il condizionamento dato dalle dichiarazioni di Patrizio Pesci avrebbe potuto portare a degli effetti deleteri per Abussale questo era l'interesse vero e c'è un ulteriore elemento importante che questo processo si inseriva anche in una fase storica molto particolare per l'olp perché da lì a pochi mesi a Venezia nella conferenza del giugno di Venezia patrocinata dall'Italia proposta e sponsorizzata dall'Italia in particolare dal presidente Cossiga si discuteva per la prima volta del riconoscimento politico dell'olp cioè l'olp mirava ad avere una soggettività politica tale da essere poi riconosciuto e interloquire con le varie nazioni quindi un passaggio uno snodo fondamentale nella storia di quel paese quindi voi capite bene che un processo del genere rischiava di far saltare tutto questo e si ha traccia in questi telex e allora il processo deve essere rinviato si chiede qual è la diciamo la posizione dell'accusa si chiede se si possono avere dei benefici per per il per il salè e quello che avete avete letto 24 aprile 1980 questo è un altro documento importante eccolo qui 24 aprile è un appunto questi appunti sono tutti firmati da sportelli che era il era l'ufficio secondo della direzione a Roma e il suo interlocutore era Giovannone che invece era aberto quando leggete maestro maestro è il soprannome di Giovannone ma tutto il nome maestro era Giovannone Sirio era sportelli ed altri insomma i principali sono maestro e Sirio eccolo qui si dice che cosa che in questa interlocuzione si chiede che il processo venga fissato al giugno luglio 1980 questa è la prima richiesta che si fa la trovate qui sotto data del processo d'appello eccola qui poi si fa riferimento sempre all'esito del processo d'appello cioè si chiede una riduzione della pena per Salè perché non c'entra nulla perché le armi erano in transito e si chiede il controvalore dei missili pari a 60 mila dollari queste sono le richieste se non arrivava una risposta dall'Italia se non fosse arrivata una risposta all'Italia il termine ultimo concesso era quello del 15 maggio cioè dopo il 15 maggio se non date risposta a queste richieste che stiamo facendo può succedere di tutto questo è l'ultimatum legato a questo telex risalente al 24 aprile il 12 maggio arriva un altro appunto eccolo qua 12 maggio appunto per il direttore del servizio no in questo appunto del 12 maggio Giovannone riporta a Sportelli che poi lo riporterà al direttore del servizio l'esito di un incontro avuto con il dottor Ramadan alto esponente del fronte che diciamo ha un ripensamento sulla data del processo d'appello cioè non lo vogliono più a giugno o luglio come chiesto quattro giorni prima ma il processo deve essere spostato quantomeno a settembre questo è il diciamo l'oggetto di questa richiesta si ribadiscono ovviamente gli ultimatum qualora non si dia corso a queste richieste e qui arriviamo al documento che è l'architrave è la prova dell'intervento assicurativo delle autorità nazionali che smorzano e tolgono ogni interesse al fronte di qualsiasi azione terroristica questo è 21 maggio 1980 eccolo qua la provenienza di questo documento riguarda la presidenza del consiglio lo vedete in alto a sinistra viene indirizzato al SISMI al servizio per le informazioni della sicurezza militare e viene sottoscritto dal sottosegretario di stato onorevole Francesco Mazzola che cosa si dice ricordatevi le richieste che abbiamo fatto fino adesso questa è la risposta che viene data in relazione alle proposte avanzate dal fronte popolare si prega codesto servizio SISMI cioè Giovannone tanto per andare ai nomi concreti di promuovere ulteriori contatti con l'elemento responsabile dell'organizzazione significando questa è la frase che sono autorizzati margini entro cui valutare le richieste relative ad Abu Saleh e dal materiale sequestrato proseguo dicendo non vi possiamo dare nessun impegno rispetto agli imputati italiani chiaramente e guardate che cosa dice codesto servizio cioè SISMI è pregato di provvedere per proprio conto all'eventuale indennizzo per i sistemi d'armi cioè restituitegli i soldi il controvalore dei lanciamissi questo è un documento che proviene dalla autorità governativa dell'epoca e questo è un documento che certamente arriva a destinazione perché guardate cosa c'è scritto per presa visione maestro maestro è Giovannone quindi Giovannone lo sa sa che è autorizzato a interloquire dicendo i missili i lanciamissili e li possiamo pagare per sale e ci possiamo guardare questo è il quadro e intanto il processo va avanti perché il processo originariamente era stato fissato come da richiesta originaria il 2 luglio del 1980 era arrivata la richiesta dell'invio vediamo che cosa succede andiamo per brevità al 27 di giugno del 27 giugno 1980 queste sono le cosette veline che arrivavano da da Beirut allora il 27 giugno 1980 il colonnello Giovannone sollecita nuovamente il rinvio del processo perché perché il processo che era stato originariamente fissato a luglio su richiesta proprio dei palestinesi non era ancora stato spostato perché l'udienza doveva arrivare ma nel frattempo era giunta la richiesta di rinvio e farlo a settembre per come vi ho detto prima no e quindi il 27 giugno siamo a ridosso dell'inizio del processo non è ancora arrivato il rinvio Giovannone evidentemente è pressato e a sua volta pressa no e dice guardate che ho avuto dei contatti in tarda sera e i membri del fronte avrebbero deciso di riprendere la totale libertà d'azione in mancanza del differimento dell'udienza attenzione libertà d'azione se non mi sposti l'udienza quindi c'è un legame strettissimo tra l'iter di quel processo e l'eventuale ritorsione io lo leggo così se me lo sposti non faccio niente questo è il senso di questo ragionamento e dice si legge in questo telex che il capo di gabinetto dottor Zarabuda non aveva escluso la possibilità di riportare la data di appello a settembre sensibilizzando dice Giovannone gli argomenti da me adotti cioè sta dicendo fate presente che c'è una situazione delicata e questo processo fatelo spostare non sta chiedendo assolvetelo mandatelo fuori dategli la benedizio sta chiedendo un rinvio questo terex è un terex davvero drammatico perché diciamo Giovannone spinge e spinge molto fa ben presente quello che sta accadendo ma le sue richieste vengono ovviamente vengono ovviamente recepite per come risulta da quest'altro documento che vi faccio vedere adesso 2 luglio 1980 quella mattina ci doveva essere il processo da perla Chieti il fronte non lo voleva voleva spostarlo a settembre in quella data vi ho prodotto gli atti del tribunale della corte perla di Chieti c'è un rinvio a nuovo ruolo quindi il processo a 2 luglio salta il 2 luglio stesso guardate 2 luglio visto dal DS e il direttore del servizio cioè il capo del del Sismi il mattino 2 luglio 80 processo rinviato è vera questa cosa qua è vera non perché la scrivono loro non solo perché la scrivono loro ma è vero perché vi ho prodotto gli atti di Chieti in cui ci fu questo rinvio che fu un rinvio sofferto questa nota diciamo va letta nella sua interezza perché qua si capisce quello che è successo in quest'ultima parte è una lettera che Sportelli cioè il direttore della seconda divisione scrive al direttore del servizio quindi al suo capo ecco qui guardate il punto 3 come disposto per le vie brevi dalla SVU quindi dal direttore del servizio maestro cioè Giovannone ha tentato il 30 giugno e il primo luglio di contattare nuovamente il capo di gabinetto cioè il dottor Zarabuda perché intervenisse affinché prospettasse questa situazione ai giudici dell'Aquila al fine di prospettare l'opportunità di procedere ad un'eventuale richiesta di spostamento del processo da parte della difesa il colloquio dice è avvenuto alle 18 del primo luglio nell'occasione il capo di gabinette è apparso poco recettivo e pessimista cioè il dottor Zarabuda ha detto io evidentemente non riesco non posso non c'è sono di parere contrario non ve lo vogliono inviare questo processo e ha rimandato alle 18 di oggi per una risposta in realtà che cosa è successo che evidentemente in quella data il 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 Giovannone entra direttamente lui in contatto saltando il capo di gabinetto e fatto sta che il processo il 2 luglio 1980 salta non vi faccio vedere il documento del Tribunale di Chieti perché lo avete tagliato questo è quello che accade fino alla prima del 2 agosto 1980 non c'è nulla di di segreto in quello che avviene nel mese successivo ma su questo ci arriverò dopo faccio un passo indietro vi ricordate prima che abbiamo citato i documenti prodotti dalla difesa c'era un documento in cui si diceva guardate che Carlos ha preso contatti con dei membri del fronte questo ci preoccupa ed era un documento datato aprile del 1980 e questo diciamo io non mi voglio nascondere dietro un dito è un fatto che effettivamente viene rappresentato anche da giovanone questo per far vedere della serietà con cui diciamo si prendevano in considerazione queste richieste perché nel telex del 14 aprile ve lo faccio vedere e poi un attimo indietro ecco qua ed è questo è il punto su cui si innesta la testimonianza di Napoli prodotta dalla difesa a tale riguardo si ritiene significativa la presenza Beirut nell'ambiente del fronte di Carlos cioè di quel noto terrorista che l'ha sposato alla causa palestinese e si ritiene possibile che eventuale operazione sia svolta da autonomi da elementi non palestinesi e cioè europei poi arriveremo a Carlos e Cram allo scopo di non creare difficoltà l'azione diplomatica in corso per il riconoscimento dell'olp a livello internazionale cioè a Venezia cioè giochiamo su due fronti l'olp non appare ma si affida ok questo è quello che accade ad aprile successivamente arriva il 21 maggio come vi ho detto prima il telex di la risposta del governo ecco sulla presenza di Carlos però ci sono un po' di dubbi perché si dice in questa postilla ecco la notizia la recente scompare la parola recente scompare la notizia secondo cui elementi del gruppo operativo estremista del fronte avrebbero recentemente avuto contatti con Carlos quindi da una notizia certa si passa una notizia del tutto incerta quindi è una notizia che non è nemmeno verificata in tutti i casi e questo lo faccio per non nascondermi dietro un dito lo sviluppo successivo e cioè la lettera del 21 maggio dell'onorevole Mazzola e soprattutto il rinvio del procedimento dal 2 luglio a data da destinarsi perché si facevano rinvii a nuovo ruolo cristallizza una situazione di tranquillità per i palestini come vedremo da qui a poco dice la difesa ma dal 2 luglio al 23 settembre questo nei motivi aggiunti no perché il fax il terex successivo del 23 settembre non c'è nessun atto possibile sono andati tutti in ferie sono andati o c'è qualche cos'altro di nascosto che non ci volete far vedere e allora mi sono preso la briga anche ai fini di eventuale integrazione istruttoria di fare un'ulteriore richiesta al Sismi o meglio all'Aise ex Sismi e gli ho detto e ho chiesto e vi ho prodotto nella memoria del 23 maggio se tra il 2 luglio data di ultimo documento in possesso dell'ufficio e il 23 settembre ci fosse qualche altra cosa che magari era sfuggita la risposta ce l'avete in atti ed è assolutamente negativa cioè tra il 2 luglio e il 23 settembre non c'è nessuna interlocuzione dal centro Sismi di Beirut alla direzione perché il motivo non è perché vogliono nascondere qualcosa o hanno distrutto qualcosa perché il processo più semplicemente era stato rinviato non c'era motivo di nessuna interlocuzione la richiesta del fronte era stata accolta seppure con qualche difficoltà perché il processo era stato fissato secondo le prime indicazioni poi spostato e non poteva essere spostato prima dell'udienza e quindi ciò ha causato quella fibrillazione del 27 del 27 giugno ripeto tra il 2 luglio e il 23 settembre non poteva esserci nessuna interlocuzione perché le richieste erano state assolte ma andiamo a quello che accade dopo allora se questo è un dato di logica stringente se io ho un interesse a mettere una bomba e faccio delle richieste e queste richieste vengono assolte io capisco che l'interesse viene meno e interrompo ovviamente tutto l'interessamento che ho per la posizione di Abusalee questo è ti chiedo questo me lo dai il mio interesse in quel momento immediato è soddisfatto mi dici che mi ripagherai perché devo fare un'azione ritorsiva contro l'Italia di questo ne abbiamo prova in tutta la documentazione successiva al 2 agosto 1980 la prima nota del 23 settembre 80 Giovannone comunica al suo interlocutore che aveva chiesti conoscere la data orientativa del processo d'appello la conferma di quanto comunicato a metà maggio guardate questa vi dà la misura dell'importanza di quel documento del 21 maggio dell'onorevole Mazzola la conferma di quanto comunicato e cioè i missili ce li pagate e salee in qualche maniera intervenite la situazione aggiornata in relazione all'atteggiamento dell'accusa della corte giudicante e allora questa richiesta si pone in perfetta continuità con l'interlocuzione precedente il che vuol dire che per mano dei palestinesi non era successo nulla che cambiasse quello che era il loro interesse per quel processo e l'atteggiamento italiano rispetto allo stesso fronte perché ci arriveremo dopo qui si dice che ma lo anticipo che il sismi ha impistato cioè per coprire tutta questa vicenda avrebbe avrebbe diciamo indirizzato nei confronti di Fioravanti e Mambro è un argomento che tratterò dopo ma io mi chiedo questo ma secondo voi con 85 morti ancora da identificare ma l'Italia avrebbe ripreso dei contatti se fosse stata a conoscenza che la bomba era di mano palestinese 85 morti una stazione venuta giù 85 morti cioè poteva giustificare una cosa di questo genere un evento di quella portata ecco la risposta ognuno se la dà da solo cioè mi causi un un disastro di questo genere butti nella disperazione 85 famiglie e mi continui a chiedere di sale cioè voglio dire c'è una proporzione in tutto questo 6 ottobre 80 perviene un altro telex da parte Giovannone con il quale addirittura il capocentro dice guardate mettete un infiltrato dentro al tribunale alla corte appello dell'Aquila per seguire il processo in maniera tale che chi di dovere lo sappia in tempo reale nel frattempo il processo riprende e viene fissato per il 26 novembre 1980 e anche in questo caso dietro espressa richiesta viene spostato al 15 aprile 1981 a due rinvii ecco andiamo a un altro punto caldo della vicenda come per dire che la situazione non si era diciamo del tutto tranquillizzata perché rimaneva rimaneva il problema della libertà di Salè e quindi diciamo gli spostamenti del processo i rinvii arrivano al al 15 giugno quando accade una cosa diciamo che non viene gradita e cioè che è questa il 29 maggio 1981 la difesa di Salè aveva inoltrato un'istanza di scarcerazione per il proprio assistito cioè il Giordano doveva essere scarcerato il Giordano non venne scarcerato perché i giudici dell'Aquila dissero no alla scarcerazione e questo diciamo innescò anche qui una reazione guardate che cosa accade il provvedimento reiettivo viene portato a conoscenza e il fronte risponde in questa maniera no il fronte cioè c'è il rischio dice Giovanone che il fronte interpreti questa decisione e cioè il rigetto della libertà come dimostrazione definitiva dell'atteggiamento pregiudizievole negativo delle autorità italiane e quindi possa riprendere la sua libertà di azione sempre questa libertà di azione in sostanza e questo riguarda anche il nostro il nostro caso non si dovrebbe più fare affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e contro interessi italiani decisa dal fronte nel 1973 cioè ci sta dicendo Giovannone che questa il protassi di questa vicenda potrebbe provocare l'interruzione e la ripresa delle attività che sono sospese dal 1973 qui il 2 agosto era già passato perché siamo al 15 giugno del 1981 e in questa in questo caprogramma importante si dice guardate che le operazioni possono essere due anche se indicano quali sono il dirottamento di un 10-10 dell'Italia e l'occupazione di un'ambasciata italiana in un paese del Centro America o Sud America quindi diciamo una posizione forte rispetto a questa manifestazione il 12 giugno 81 nell'allegato 33 della memoria c'è una risposta c'è una risposta che proviene direttamente dalla presidenza del consiglio in cui si dice conferito con il presidente del consiglio e successivamente con il dottor Zarabuda che è il capo di gabinetto del ministro il quale si è assunto l'impegno di avviare i necessari contatti con la corte d'appello dell'Aquila e cioè non era stato scarcerato quelli si erano arrabbiati l'Italia dice vediamo quello che possiamo fare attraverso altri dirigenti del ministro di grazia e giustizia il 17 giugno il processo viene nuovamente rinviato e il 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 18 di quello stesso mese il SIS mi trasmetta alla presidenza del consiglio un'annotazione di questo genere se volete la guardiamo se no ve la leggo ma intanto la metto 18 giugno 1981 qua ci sono gli indirizzi tra cui il presidente del consiglio il ministro di interno il ministro della difesa il ministro di grazia e giustizia e quant'altro ecco qui questo è quello che scrive Giovannone l'interlocutore del fronte in un contatto la sera del 17 giugno con il rappresentante del SIS è apparso sollevato è apparso sollevato dalla notizia del rinvio del processo d'appello dell'Aquila si è dimostrato relativamente fiducioso circa le richieste alternative avanzate per Salè accoglimento delle istanze di libertà provvisoria spostamento in altro carcere ha chiesto di fornigli appena possibile indicazioni temporali su quale di queste soluzioni diciamo intendono adottare e poi c'è un riferimento a diciamo a a questo signore che è Nabil Caddura che era colui che guidava la nave su cui erano i lanciamissili dice al del fronte non ce ne frega niente di questo fate quello che volete ecco qui questo è diciamo il la comunicazione al 17 giugno quindi anche qui vedete che ci sono le stesse identiche modalità che erano state adottate prima del 2 agosto 1980 cioè c'è un interesse c'è una manifestazione c'è sicuramente un 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 ultimato una una manifestazione ma c'è sempre la risposta governativa che in qualche maniera per la sicurezza anche nazionale interviene interviene cercando di nei limiti ovviamente della legalità di garantire quello che si può garantire ovviamente questa interlocuzione viene eseguita da un'altra guardate che qui il 13 luglio 1988 a seguito di queste interlocuzioni ritrovate negli allegati 41 e 42 il fronte che si vede in qualche maniera rassicurato di un possibile intervento che porti alla scarcerazione di Salè diceva bene sospendiamo qualsiasi attività fino al mese di settembre 1981 e di questa circostanza fu informato anche il ministro della difesa quindi c'era un clima di trattativa ma di distensione a questo interno tant'è vero che poi le cose vanno come vanno e cioè il 14 agosto 1981 Salè viene scarcerato viene scarcerato per decorrenza termini è l'unico ad essere scarcerato dei tre c'è la motivazione della cassazione che se avete voglia ve la potete guardare ma sostanzialmente viene accolta un'istanza difensiva della difesa di Salè che fa rilevare la decorrenza della carcerazione preventiva e quindi il diritto a tenere la libertà ovviamente questo mi dovete spiegare o qualcuno se riesce a spiegarmelo questo continuo parlarsi questo continuo aderire a queste richieste poteva sorreggere un interesse palestinese da mettere la bomba il 2 agosto cioè se io sto parlando con un'altra persona e questa persona mi risponde io non ho motivo di attaccare attaccarlo frontalmente con un gesto di questo genere e questa cosa qui procede ed è provata da questi ultimi documenti che vi mostro sul punto perché nel 1982 addirittura questo eccolo qua 28 febbraio 1982 si dice quello prima chiedo scusa 19 febbraio 1982 eccolo qui avvengono degli incontri tra i vertici del SESMI che nel frattempo era cambiato e c'è si dato di un incontro il 16 18 febbraio 1982 e il 17 che cosa accade chi scrive che sempre sportelli dovrebbe essere la direzione era stata assunta dal generale Lugaresi dice ho incontrato a Buola Buola era un dirigente del fronte e ho trattato i seguenti temi vicenda dei missili SA7 sono i famosi quelli sequestrati ortona in relazione alla quale erano a definire il riconoscimento o non della lettera presentata alla vigilia del processo e la richiesta di pagamento di questi missili dice ho trattato questi temi ecco poi dice a Buola ha affermato che quella lettera non fu approvata si trattava della lettera inviata al tribunale di Chieti durante il primo processo ma su quella vicenda del pagamento dei missili si dice che questa vicenda ha perso un po' di interesse anche perché il generale Santovito aveva fornito il gruppo palestinese di 4 ambulanze di 4 mezzi sanitari e questa cosa viene ripresa quindi l'Italia non si è dimenticata del risarcimento o meglio del pagamento di quei lanciamissili tant'è che ne parlano addirittura nel 1982 secondo voi con una ritenuta responsabile da 35 morti gli andiamo a dare anche 60.000 dollar rigare il valore dei lanciamissili questo sempre sotto il profilo logico vediamo dove eccola qui ecco qui con questa annotazione si dice si dice e si insiste anche qui siamo nel 1983 ancora su questo pagamento dei lanciamissili che la questione non è più di interesse per il fronte hanno rinunciato sostanzialmente al controvalore e alla fine lo leggiamo la questione è stata portata davanti interlocutoriamente con interesse decrescente fino al primo semestre 82 fronte potrebbe pertanto non ritornare più sull'argomento stiamo parlando dei 60.000 dollar di quei lanciamissili che era una delle due richieste originari allora a conclusione di questa prima parte io sono andato per quel che potevo anche abbastanza in fretta tutta questa documentazione a che cosa serve e perché l'abbiamo portata l'abbiamo portata prima perché ci sembrava che diciamo si dovesse porre chiarezza su questi documenti del sismi perché diciamo per tanto tempo sono stati diciamo sbandierati come l'ostacolo a riconoscimento della verità e sono stati riportati e questa è una nota di grande devo dire disappunto perché affronto solo questo tema poi chiudo il ecco voi ricordate questo telex del 18 giugno 81 in cui si diceva si parlava della libertà e si prospettava la libertà di ripresa delle libere azioni e si diceva guardate che può venire giù un aereo o attaccare un'ambasciata in qualche parte del mondo ecco questo abbiamo visto che era del giugno 1981 ebbene è stato diverse volte e qui si va su un altro fronte non propriamente processuale ma bisogna dirlo per onore di verità e per completezza di argomentazione che il 25 giugno 2020 il senatore giovanardi pubblica questa intervista in cui si dice che devono essere pubblicati questi documenti e e che la strage di Bologna e la vicenda di Ustica sono collegate alla vicenda di Ortona tant'è vero che nel giugno 1980 c'è un telex che dice che viene giù 11-10 eccolo qui questo è un virgolettato negli atti a cui è stato tolto il segreto ma che sono di nuovo classificati e che lui ha avuto modo di vedere in quanto membro di una commissione parlamentare d'inchiesta è giusto che i cittadini sappiano cosa è accaduto effettivamente giusto nelle settimane precedenti il 27 giugno 1980 si tratta di atti sui rapporti fra Italia palestinesi che vanno da 79 al 1980 ecco nello specifico il 16 giugno 1980 abbiatamente questa data i nostri delizi segreti scrivono che dalla preoccupante relazione di Abbaccio è motivo di ritenere che riprenderà la libertà d'azione non si può fare affidamento sulla sospensione delle attività terroristiche e si può ipotizzare una situazione di pericolo a breve scadenza quindi fa riferimento al 16 giugno 1980 e allora che cosa succede siccome aveva diciamo sostanzialmente invitato il governo a togliere il segreto di Stato e comunque lui avrebbe riferito quello che aveva visto c'è un incontro a stretto giro il 30 giugno 2020 in cui il personale dei servizi fa presente che quel telex dove c'era il 10 no il 10 10 che è da cadere non era del giugno 80 ma era del giugno 81 eccolo qui per inciso si rappresenta che il senatore giornale riguarda uno dei documenti da lui annotati in cui vi richiamo un direttamento di C10 peraltro di fuori territorio nazionale ha preso atto il senatore che si tratta di una volta del 16 giugno 81 di un anno successiva al disastro di Ustica verificato il giugno 80 quindi c'è stato un equivoco un errore un errore di data mettiamola giù come vogliamo il punto è che a distanza di pochi giorni su una pubblicazione che io vi ho prodotto e quindi diciamo che viene letta e che in qualche maniera incide nella formazione di una propria idea in un libro che vi ho prodotto c'è scritto che a giugno 80 il fronte aveva minacciato di tirare giù un aereo e guarda caso quella sera esplode viene colpito scusate il 19 Bologna Palermo ma purtroppo diciamo il Terex era di un anno dopo e non di un anno prima questo per diciamo chiarezza poi ovviamente la corte si farà l'idea che si farà di questi documenti ma è giusto che li abbia tutti a disposizione è giusto che diciamo quindi quello che fanno emergere emerga in tutta la loro in tutta la sua forza allora io se mi da due minuti appunto rimetto no no rimetto a lei la decisione quanto sospendere se lei si no se mi da due minuti perché adesso passerei al secondo argomento che è il gruppo Carlos va bene la sospensione la facciamo 5 minuti mi basta anche 10 grazie allora riprendiamo il processo ridiamo la parola al dottor Proto che se la ritoglierà da solo e da lei allora giusto almeno fino a l'una andiamo sì l'una non è mezzo farvi da un po' lei a che punto è dove è meglio tagliare diciamo fare l'interruzione sì però niente più no no perché non ho le strade erano quelle no allora no dunque abbiamo detto che i motivi d'appello i primi motivi d'appello attenevano proprio a questa riconducibilità dell'attentato ai motivi alternativi e la documentazione che abbiamo guardato insieme diciamo toglie un po' la mette chiarezza sulla vicenda che riguarda specificamente i missili di Ortona per corroborare questa tesi la difesa nel motivo d'appello che cosa ci dice che l'interesse dei palestinesi a mettere a fare quest'azione ritorsiva per Abusale sarebbe poi stato materialmente posto in essere dal dal gruppo di Carlos che era il capo di un'organizzazione denominata Separat con l'aiuto l'ausilio di Thomas Scrum questo questo elemento da dove nasce questa cosa qui allora questo lo dico insomma soprattutto per i giudici popolari non so se nella memoria c'è scritto tutto però lo riassumiamo a grandi linee anche per insomma ricostruire la storia la commissione Mitrokhin era una commissione istituita nel 2000 nei primi anni 2000 e diciamo aveva il compito di esplorare i rapporti diciamo i rapporti tra i paesi dell'est e i servizi in particolare con diciamo esponenti più o meno della sinistra italiana nel corso di questi lavori diciamo guardando gli archivi della gli archivi che erano stati acquisiti atti di archivi che erano stati acquisiti e che provenivano dalla sia dalla ex repubblica tedesca che dall'Ungheria se non sbaglio ci si imbatte nella vicenda di 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 Carlos e di Abusale perché perché quella documentazione che era stata acquisita dalla dalla commissione mitrocchini ci sono dei documenti che attestano un contatto tra Carlos e Abusale in particolare c'era un fermoposta comune che metteva in connessione i due i due soggetti ecco la i lavori di questa commissione si sono poi sviluppati e hanno portato a quella relazione che è stata prodotta in primo grado e richiamata in appello perché non si capiva bene dove fosse finita e sostanzialmente diciamo si dice a giudizio della difesa che in quella documentazione in quella relazione si ha la prova o comunque diciamo si aprono degli scenari che potrebbero ricondurre al gruppo Carlos quale braccio operativo del fronte rispetto all'ecidio di Bologna e fu proprio il deputato Fra Galazza se non sbaglio che si recò in procura nel 2005 e depositò al dottor Giovagnoli questa relazione con una richiesta analitica di investigare anche la pista palestinese e da lì si apre il fascicolo il famoso fascicolo 13 225 barra 11 che verrà concluso con una richiesta di archiviazione qual era l'oggetto dell'indagine questo va chiarito perché l'oggetto dell'indagine è importante capire quanto è stata profonda quell'indagine e se le conclusioni a cui è arrivata sono conclusioni condivisibili voi nella sentenza di primo grado avete già una motivazione importante perché c'è tutto un capitolo dedicato alla pista palestinese in particolare alla relazione separat il giudice del primo grado non avevano quei documenti che voi avete visto prima però avevano questa relazione sono oltre 100 pagine di motivazione in cui si affrontano tutti i temi che la relazione ha approfondito e si dà quella motivazione che voi conoscete allora rispetto a quella documentazione io ho svolto alcune considerazioni ulteriori e ho prodotto nella memoria del 21 marzo 2023 alcuni atti specifici perché mi avviedo poi gli atti sono quelli che rendono di più l'idea e sono prove documentali importanti che ci dicono alcune cose l'indagine della procura di Bologna si sviluppò partendo proprio dalla relazione separat cioè presero questa relazione ma non si limitarono a leggere questa relazione perché la procura di Bologna prima il dottor Giovagnoli e poi il dottor Ceri approfondirono acquisendo tutti gli atti a cui faceva riferimento la relazione separat e che erano tre faldoni che sono dettagliatamente indicati in particolare il faldono 86 232 263 che erano stati oggetto di analisi della commissione Mitrokin i faldoni provenivano uno dalla Francia che a sua volta le va acquisite dall'Ungheria in Ungheria perché il gruppo Carlos aveva sede anche delle basi anche in Ungheria l'altro invece gli altri due faldoni provengono dagli archivi della Stasi che era la polizia politica tedesca della Germania dell'Est dove peraltro i procuratori si recarono personalmente cioè sono andati a parlare con i corrispondenti colleghi dei tribunali tedeschi per valutare vedere insieme quei documenti quindi non soltanto la relazione ma si va alla fonte per capire se c'era qualche collegamento qualche azione qualche tipo di rappresaglia posto in essere da Carlos nei confronti rispetto ai fatti del 2 agosto quindi che cosa fecero acquisirono tutte le informazioni relative a Sanchez al gruppo Separate a Thomas Scramma e a una serie di soggetti che venivano indicati nella relazione Separate hanno acquisito e sentito tutti i testimoni in particolare gli agenti segreti della Stasi sono i verbali in atti perché le indagini svolte in quel paese si avvalevano soltanto dell'osservazione ma soprattutto dell'ascolto erano microfonati tutti i luoghi dove questi soggetti vivevano o passavano transitavano si trattavano soprattutto di stanze alberghiere stanze in albergo quindi c'era un'attività di controllo talmente ramificata che non poteva scappare nulla ed era talmente ramificata che ed estesa nel tempo che la procura di Bologna acquisì anche le intercettazioni svolte nei confronti di un soggetto che vi ha nominato l'altro giorno l'avvocato Pellegrini che sarebbe stato il capo di Thomas Graham Weirich anche a cavallo del 2 agosto cioè erano monitorati in quel periodo anche quando a Bologna saltava per aria la stazione vediamo adesso che cosa hanno scoperto vedendo quei documenti non leggendo la relazione quindi l'indagine è stata davvero approfondita e allora i risultati sono riportati nella 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 richiesta di archiviazione pagina 8 di quel provvedimento che ha legato in atti ci sono le note di accompagnamento cioè le risposte dettagliate in cui si dice che lo studio dettagliato dei documenti in nostro possesso sono quelli dell'Ungheria questi non consente di imputare a Ilic Ramirez Sanchez o a membri del suo gruppo la responsabilità dell'attentato commesso il 2 agosto 1980 alla stazione alla stazione di Bologna è una relazione di sintesi del capitano di polizia francese Jean-François Rioux che era il collaboratore del giudice istruttore e dalla lettura di questi atti si rileva che non vi sono riferimenti alla strage di Bologna alla permanenza in Italia di esponenti del gruppo Carlos nel periodo vicino al 2 agosto cioè che cosa hanno fatto questi su sollecitazione dell'autorità italiana hanno riletto quei documenti acquisiti dall'Ungheria per capire se in relazione allo specifico episodio ci fosse qualche altro utile questa è la risposta e si va di che è una risposta che non viene dall'Ungheria viene dalla Francia cioè perché uno potrebbe pensare che l'Ungheria era un paese dell'est all'epoca quindi in qualche maniera ci poteva essere qualche interesse a coprire questi sono quei documenti che sono stati acquisiti dalla Francia e visionati dai francesi non dagli ungheresi analoghe conclusioni per quello che riguarda l'esame dei dossier dell'ex stasi c'è anche qui una nota di trasmissione che io vi ho allegato l'allegato 54 della memoria in cui si dice che nella documentazione acquisita presso il Ministero per la Sicurezza dello Stato e documentazione inerente a Carlos sono state trovate numerose liste di attentati attribuiti al gruppo cioè nessuno nega che il gruppo Carlos fosse un gruppo diciamo che proprio non agisse anche a livello terroristico l'attentato alla stazione centrale di Bologna non vi è menzionato cioè negli elenchi che erano riferibili a Carlos e in cui c'erano determinati obiettivi raggiunti Bologna non c'era ed era documentazione acquisita dalla Stasi che aveva quel sistema di controllo che vi ho detto prima nei 100 atti con relative 20.000 pagine totali in cui è stata operata la ricerca non sono state rinvenute indicazioni per cui singoli membri o l'intero gruppo singoli membri o l'intero gruppo quando dico singoli membri leggi Thomas Graham abbiano preso parte all'attentato e quindi diciamo non c'è nulla che vi possa interessare questo è l'allegato 54 ma gli inquirenti non si sono accontentati di vedere documenti sono anche andati a sentire quei funzionari si trattava di quattro testimoni in particolare che diciamo sentiti dalle autorità tedesche hanno così hanno risposto ovviamente agli inquirenti io non vi ho allegato i verbali informazioni ma ci sono negli atti del processo diciamo così Giovagnoli tanto Giovagnoli Ceri tanto per intenderci ma c'è la nota riassuntiva di quelle deposizioni si dice questo nessuna delle persone interrogate ha rilasciato dichiarazioni che possono rappresentare spunti positivi per le indagini considerando che a quanto si può riscontrare attività terroristiche di gruppi italiani non hanno rilevato alcun rapporto con il territorio della Repubblica Democratica Tedesco della Repubblica Federale Tedesca e il Ministero per la Sicurezza dello Stato ha solo appreso dell'attentato a Bologna attraverso collaboratori informali secondo il locale ufficio in base alla valutazione di quelle dichiarazioni è indubbio che nella cerchia delle suddette persone non si disponga di alcuna notizia utile per i fatti di Bologna quindi anche sotto questo profilo gli agenti segreti della Stasi che avevano le loro fonti hanno chiesto se c'era qualche cosa di riconducibile perché ovviamente l'attentato alla stazione di Bologna fece il giro di tutto il mondo nonostante fossimo negli anni Ottanta e gli strumenti di comunicazione erano inferiori e questa è la risposta che ci arriva dalla Stasi ma non si si è fermati qui perché quegli stessi documenti sono stati analizzati anche dai nostri funzionari della Dicos di Bologna quindi dal Dottor Marotta dall'ufficio del Dottor Marotta e dai suoi uomini hanno analizzato nuovamente i tre faldoni 86 232 263 e il personale funzionale della Dicos di Bologna hanno esaminato i documenti raccolti ed hanno escluso ogni possibile riferimento alla strage del 2 agosto tutto questo è riportato nel decreto di archiviazione e quindi che cosa si può dire che il diciamo il questo diciamo basterebbe per porre nel nulla la la relazione Mitrochin perché quella relazione è stata analizzata e approfondita il decreto di archiviazione poi si spende anche sulla sull'esistenza o meno dell'odomore da diciamo un giudizio che diciamo può essere riferito alla conoscenza che avevano i giudici a quell'epoca e in quella a giudizio che danno soprattutto sulle dichiarazioni di sportelli che cosa si dice che il Lodomoro era un accordo intercorso ma che aveva una natura politica nel senso che l'Italia si impegnava politicamente a sostenere la causa palestinese è un accordo ovviamente non scritto non c'è nessun contratto nessun atto scritto in cui si metteva diciamo si trascrivono le varie clausole di questo accordo era un accordo politico nato dopo i fatti del 73 a Fiumicino sponsorizzato e proposto dall'onorevole Moro ma con questa finalità noi vi sosteniamo nella vostra causa ma non diciamo toccate il territorio italiano non era un accordo in forza del quale i palestinesi erano autorizzati a far passare i fiumi di Anghi tant'è che quando sono passati poi li hanno arrestati e quello di Salè non è l'unico caso non è che li abbiamo fatti passare ce n'è un altro che voi troverete nei documenti che vi ho citato prima risalente all'82 in cui diciamo furono arrestati altri soggetti palestinesi perché diciamo trasportavano dei detonatori e allora questo che cosa vuol dire che non dobbiamo leggere come sostiene la difesa questo accordo tale da poter far passare qualsiasi cosa da chiudere gli occhi perché l'accordo era di natura diversa su questo punto la difesa introduce anche la deposizione del del presidente Cossiga il quale diciamo introduce quella che è la cosiddetta ipotesi dell'incidente dell'esplosione accidentale no e su questo punto Cossiga rilasciò un'intervista nel 2008 al Corriere della Sera in cui disse che la strage la stazione di Bologna era un incidente accaduto agli amici della resistenza palestinese che autorizzata dall'Odomoro a fare entrare in Italia quel che voleva fecero saltare colpevolmente uno o due valigie di esplosivo questa è una dichiarazione che Cossiga fa nel 2008 in piena indagine della procura di Bologna a quel punto la parola di Bologna che cosa fa chiama il presidente Cossiga o meglio si reca a Roma a sentire Cossiga il quale smentisce completamente questa dichiarazione e dice voglio precisare che quello che ho detto al giornalista è un'ipotesi che io ho fatto ricordo che se ne parlò durante l'evolione in prefettura avvenuta 24 ore dopo la strage cosa diciamo che non risulta da quei verbali e però dice smentisco come è stato scritto nell'intervista di Cazzullo che io abbia detto ciò perché ciò mi era stato riferito dai carabinieri è stato un fraintendimento del giornalista e quindi qui Cossiga sostanzialmente smentisce se stesso perché da un lato fa una dichiarazione pubblica e qui torniamo a quello che ho detto prima cioè da un lato c'è una verità tra virgolette che passa attraverso i media e che in qualche maniera influenza poi quando si vanno a fare gli atti a deporre davanti a un procuratore della Repubblica o deporre davanti a una corte d'assise le cose cambiano cambiano completamente ma intanto si è instillato questo dubbio si è introdotto diciamo il virus mediatico il virus mediatico che nel nostro processo nel nostro processo in quello a carico dei maggiorenni ha avuto un ruolo determinante ma lo vedremo più avanti riunione del 5 agosto ne parla anche Cavallini nella sua ultima memoria l'ho letta velocemente però ne parla e si dice che cosa sostanzialmente che in quella ci fu una riunione dei vertici dei servizi delle forze di polizia e del ministro Cossiga all'epoca anzi forse era presidente del consiglio probabilmente sì era presidente del consiglio per diciamo fare il punto sulla situazione e capire diciamo che cosa si muoveva dietro la strage di Bologna questa riunione avvenne il il 5 di agosto del 1900 del 1980 quella difesa è molto forte e dice guardate che quella riunione non conta quello che è stato detto ma conta quello che non è stato detto in quella riunione e cioè si va un po' sulla sul cosiddetto impistaggio cioè si indicò la strada neofascista della destra per coprire il Lodo Moro cioè nessuno affrontò in quella sede la vicenda dei missili d'Ortona e tutto quello di cui abbiamo parlato prima ma siccome si doveva coprire quell'accordo con 85 morti che erano ancora da identificare in quella riunione si preferì coprire questo accordo con i palestinesi e quindi rendersi in qualche maniera complici quantomeno sotto il profilo morale rispetto a dire ciò che era successo e allora torniamo un attimo a quei documenti perché voglio sottolinearvi questo in quella riunione parteciparono tutti i vertici dei servizi segreti che peraltro poi si scoprì essere piduisti partecipò il presidente Cossiga e parteciparono anche il ministro della difesa se non ero ma certamente c'era il presidente Cossiga questi soggetti erano tutti informati della interlocuzione che vi ho mostrato prima tra il fronte e l'Italia attraverso Giovannone perché ci sono le lettere di trasmissione cioè quando arrivava l'appunto Giovannone questo veniva indirizzato al presidente del Consiglio e ai vari ministri ma non è uno sono tanti appunto 18 dicembre 79 cioè il primo in cui si affronta per la prima volta il problema viene posto a conoscenza il presidente del Consiglio dell'arresto del Giordano in calcio a questo appunto voi trovate per l'appunto la dicitura appunto per il presidente del Consiglio 10 marzo 80 fatta fotocopia dovrebbe consegnare al presidente del Consiglio allegato 57 quella nota del 14 aprile che abbiamo visto prima che era la nota più diciamo importante sotto il profilo dell'ultimato fu portata a conoscenza del capo gabinetto del presidente del Consiglio e ancora 24 aprile stessa cosa l'appunto è stato inviato presidente del Consiglio ministro della difesa ministro della giustizia segretario ascesi segretario degli affari esteri il 12 maggio uguale era quella appunto in cui si dice si spostava e si sospendevano le azioni a conoscenza del presidente del Consiglio ministro della difesa della giustizia e sottosegretario della presidenza il 21 maggio è il documento fondamentale che vi ho detto prima proveniva proprio dalla presidenza del Consiglio e la vicenda relativa al 2 luglio 1980 anch'esso fu fu portata a conoscenza dell'autorità governativa e allora voi vi immaginate in questa riunione tutte queste persone che sanno no? e fanno finta di non sapere giocano al giochino io so che tu sai che io so ma non se ne parla e intanto ci sono gli 85 morti ma mi pare una cosa sostenibile da un punto di vista logico da un punto di vista logico fare un'affermazione e dire no ma in quella riunione è più importante quello che non si disse cioè questo rispetto a quello che si disse cioè che era stata la destra a mio avviso diciamo stiamo parlando dei vertici dello Stato stiamo parlando dei vertici dello Stato è vero che le indagini porteranno a dire che alcuni erano deviati ma arrivare a sostenere la complicità nella copertura a discapito dell'accertamento della verità rispetto a un fatto di questo genere c'è un salto logico difficilmente difficilmente colmabile e quindi in conclusione su questo specifico punto cioè quello di Carlos quella documentazione che vi ho citato prima e cioè l'assenza totale di riscontri da parte di quelle autorità che Carlos seguivano rispetto ai fatti di Bologna già pone nel nulla la responsabilità di Carlos e quindi a maggior ragione dei palestinesi per i quali avrebbe agito la stessa cosa vale se scendiamo ancora più a fondo per Thomas Cram Thomas Cram viene indicato come un soggetto appartenente al gruppo di Carlos ed era certamente a Bologna il 2 agosto 1980 nessuno diciamo nega un dato di questa un dato emergente e ammesso peraltro dallo stesso Cram nel corso del suo interrogatorio allora chi era intanto Thomas Cram Thomas Cram io vi ho prodotto la sentenza del Tribunale di Stoccarda che lo ha condannato alla pena di anni 2 per la partecipazione all'associazione cedule rivoluzionarie si chiamava così è un soggetto di scarsissimo peso all'interno di quella organizzazione voi questo lo trovate scritto nella sentenza del Tribunale di Stoccarda dove addirittura in un passo di quella sentenza si dice che pagina 22 si dice questo Thomas Cram aveva un amico un caro amico che morì nel 1979 a seguito di uno scontrofuoco ebbene questo fatto provocò la messa in sonno diciamo così di Thomas Cram rispetto alle attività che quell'organizzazione faceva proprio perché era considerato un elemento bruciato l'arresto dell'amico poteva portare non la morte l'arresto dell'amico chiedo scusa l'arresto dell'amico poteva portare in qualche maniera all'individuazione anche di Thomas Cram per cui era ragionevole e prudente che Thomas Cram si allontanasse sparisse dalla circolazione siamo nel 79 tant'è vero che gli episodi successivi che vengono contestati a Thomas Cram risalgono a 1985 quindi siamo abbondantemente fuori dal periodo che ci interessa che cosa ci faceva Cram a Bologna il 2 agosto anche qui l'indagine della procura di Bologna lo ha accertato a mio avviso in una maniera assolutamente esaustiva Cram arrivò in Italia il 1 agosto del 1980 e venne identificato e perquisito dalla polizia di frontiera di Chiasso quindi diciamo era un soggetto che era monitorato già in precedenza per cui quando passa la frontiera lo fermano e gli chiedono chi è lei i documenti e lo trattengono per due ore questo ritardo nel viaggio fa saltare i programmi di Cram perché Cram e anche questo è provato per Tabulas doveva recarsi in Italia all'appuntamento con una sua conoscente con una persona che lui aveva conosciuto a Perugia quando studiava italiano a Milano o Varese non c'erano dei punti di riferimento precisi ma sono state ritrovate due lettere in particolare quella scritta da Elisabeth Schmolz che era la persona che lui doveva andare a trovare in cui diciamo si danno tutte le indicazioni dei recapiti dove poter trovare la Schmolz in Italia e la Schmolz viveva tra Milano e Varese si divideva in quella in quella in quelle due città che cosa è accaduto che il ritardo provocato dal fermo di Kram a Chiasso ha comportato un ritardo nel suo arrivo a Milano perché lui si reca a Milano e quindi non trovando più essendogli saltato l'appuntamento con la con la Schmolz che è tutto ovviamente dettagliatamente descritto nell'archiviazione il Kram torna indietro e decide di fermarsi a Bologna la sera del primo agosto ed è per questo che nascono poi tutte quelle informative che vi ha prodotto la difesa sulla presenza a Bologna di Kram nella notte tra l'1 e il 2 agosto allora la difesa cosa dice insomma però qui abbiamo una relazione separat che ci dice che Carlos era amico dei palestinesi abbiamo la presenza di Kram a Bologna ci può stare che diciamo Kram in realtà non sia venuto non era casuale la sua presenza in città su questo però dobbiamo fare alcune considerazioni la prima è questa Kram fu controllato identificato a chiasso a chiasso e per cui diciamo il suo ingresso era un ingresso monitorato allora se uno viene in Italia per mettere una bomba o fare assistenza a chi quella bomba la deve mettere la regola minima di cautela vuole che diciamo non si lasci traccia del suo passaggio la seconda è questa che non soltanto era stato identificato il giorno prima ma anche all'hotel Zecca dove lui dormì tra la notte tra il primo e il 2 agosto è una circostanza assolutamente incompatibile e irragionevole con che si sta prestando a compiere un gesto di questo genere tra l'altro e questo voi lo troverete nella sentenza Cram non era proprio uno sproveduto nella falsificazione dei documenti anzi all'interno della sua associazione secondo le dichiarazioni che fece poi anni dopo un pentito che portò al suo arresto Cram aveva proprio uno specifico compito di falsificare i documenti di identità dei suoi compagni dei suoi amici di creare dei documenti di copertura e quindi diciamo era certamente in grado di procurarla anche se stesso se la sua venuta in Italia fosse riconducibile a quella vicenda e quindi c'è una irragionevolezza della della diciamo della registrazione secondo quello che lui ha sostenuto è stato riscontrato dalle dichiarazioni della stessa della stessa Schmolz che è stata sentita e se ne è dato ovviamente nel decreto di archiviazione delle autorità italiane e la Schmolz ammette intanto la conoscenza con Thomas Cram e la fari salire al periodo perugino e ammette di aver avuto dei contatti con il medesimo Cram e della possibilità che effettivamente due potesse avessero avuto un appuntamento nel 1980 secondo diciamo il ricordo che lei poteva avere questa signora è stata a distanza di oltre 25 anni dal fatto quindi più di quello che poteva dire non poteva dire più di quello che ha detto e quindi questo è il secondo elemento il terzo elemento ve l'ho già detto prima un ruolo del tutto marginale di Cram all'interno della sua associazione di riferimento e qui vi rimando alle pagine 14 e 15 del decreto di archiviazione ma soprattutto alla sentenza che vi ho prodotto e il quarto elemento è questo che secondo me è poi quello diciamo più forte se Cram è un uomo di Carlos agisce su mandato di Carlos è il capo che gli dice vai lì fai questo fai questo e fai quest'altro ma se è provato come è provato che Carlos non c'entra nulla con i fatti della stazione di Bologna questa diciamo estranetà si riverbera irrimediabilmente anche sulla posizione di Cram perché Cram era un soggetto che non aveva alcuna autonomia decisionale ora se chi sta sopra di lui non c'entra con questi fatti è evidente che anche chi sta sotto o si ritiene stia sotto perché io su queste ho molti dubbi deve seguire la stessa sorte di chi gli dà gli ordini è una deduzione a scalare è diciamo vedete come si ingarbuglia la storia nel senso che diciamo qui dobbiamo mettere insieme i documenti che vi ho prodotto prima e qui si prova che i palestinieri non c'entrano nulla i documenti richiamati e se non c'entrano nulla già questo ci deve dire che anche Carlos non c'entra nulla perché Carlos prende gli ordini dal fronte Carlos documentalmente non c'entra nulla perché la Germania la Francia l'Ungheria ci dicono che da tutti gli atti diciamo non emerge una virgola sulla sua responsabilità alla stazione per i fatti di Bologna gioco forza Cram che è l'ultimo anello della catena cioè o si è impazzita e ha fatto tutto da solo oppure non vi è motivo di ritenere che la presenza di Cram a Bologna sia una presenza dettata dalla necessità di diciamo compiere l'atto terroristico detto questo affronto un tema che non ho affrontato in memoria che riguarda la vicenda dell'hotel Lembo e cioè all'hotel Lembo di Bologna come vi ha detto la volta scorsa l'avvocato Pellegrini il 21 febbraio si registra la presenza di Cram e di Paolo Bellini che all'epoca si chiamava Roberto da Silva allora si dice beh insomma a febbraio sono lì ad agosto Cram è provato che era a Bologna Bellini c'è una sentenza che lo condanna c'è qualche motivo per ritenere diciamo che a questo punto diciamo questo aspetto merita di essere approfondito per far questo si portano due documenti uno è un foglio manoscritto in cui si dà atto del pernottamento di Bellini di Da Silva anzi all'hotel Lembo e l'altro è un documento della direzione centrale delle polizie di prevenzione il secondo documento non fa altro che dattilo scrivere il primo cioè quello che conta è quel foglietto manoscritto che è stato prodotto ed acquisito dalla corte se non sbaglio è stato acquisito dalla corte quindi posso entrare in questo tema allora che cosa ci provano questi documenti ci provano che si siano conosciuti il documento non dicono questo i documenti dicono soltanto che i due ammesso che presentino delle garanzie di affidabilità a questi documenti hanno dormito nello stesso albergo ma certamente non c'è nessuna prova che i due si siano conosciuti che i due si siano parlati e di che cosa abbiamo parlato questa è la prima è la prima notazione la seconda notazione è questa siamo certi che diciamo la permanenza di l'avvenuta in Italia di Cram e l'incontro l'eventuale incontro con Bellini sia realmente avvenuto dico questo perché vi ho prodotto un un accertamento era un un fonogramma della polizia di stato che fece le indagini e scoprì che Thomas Cram in realtà non era da solo ma condivise la stanza d'albergo con due soggetti uno era amato e e l'altro si chiamava Di Vincenzo quindi diciamo è ben possibile che la presenza di Thomas Cram a Bologna sia riconducibile all'incontro con questi due soggetti piuttosto che ad uno scambio di informazioni con con Bellini è vero che i due sentiti a verbale negano i due Eufemia e Di Vincenzo negano la circostanza o meglio dicono sì noi siamo stati a Bologna ma non abbiamo dormito affatto con nessun altro eravamo fidanzati all'epoca e non abbiamo visto in faccia nessun Thomas Cram si aprono degli inquietanti scenari perché possiamo addirittura dubitare che Thomas Cram sia venuto a Bologna perché i due negano quella circostanza pur ammettendo di essere venuti a dormire a Bologna perché lei la ragazza aveva un concorso da fare e lui l'aveva accompagnata ma io voglio andare oltre non mi voglio nascondere perché sennò sembra che uno si arrampichi sopra gli specchi c'è a mio avviso un argomento decisivo che toglie qualsiasi forza anche ad un eventuale incontro Crambellini ammesso che ci sia io non credo che ci sia stato credo che ci sia stata una mera coincidenza nell'aver pernottato in quei luoghi ed è questa la data di questo incontro è febbraio 1980 quindi noi dobbiamo collocarlo temporarmente il pernottamento di Crambellini o meglio di Da Silva e il primo dato è quello che in quel periodo febbraio 1980 effettivamente c'era la frizione tra il fronte e l'Italia erano appena stati arrestati erano appena stati condannati in primo grado il 14 aprile quindi due mesi dopo questo incontro ci fu quel telex che vi ho letto prima in cui si diceva se non ci trattate bene faremo delle azioni retorsive ma a maggio e a luglio le cose si erano completamente appianate per cui che cos'è che voglio sostenere che anche per ipotesi ammettendo che Crambellini si siano incontrati e che Crambellini abbiano parlato del Lodomoro che Cram si sia cioè che Bellini abbia appreso queste notizie noi dobbiamo poi fare i conti con lo sviluppo di quella vicenda perché se non facciamo i conti con lo sviluppo di quella vicenda non ne usciamo e lo sviluppo di quella vicenda è uno che Abu Salah fu scarcerato che i missili furono al denaro rinunciò il fronte e che l'Italia in qualche maniera ha condiscese a quelle richieste facendo venire meno diciamo l'interesse quindi anche ammettendo per ipotesi noi dovremmo capire poi tante altre situazioni a che titolo c'era Roberto da Silva all'hotel Lembo da chi era stato mandato e con quali fini era stato mandato no per cui anche ammettendo tutto questo lo sviluppo successivo pone nel nulla a mio avviso questo incontro così enfatizzato dalla difesa il dato temporale febbraio 80 è superato dal dato documentale del 21 maggio 1980 documento onorevole Mazzola i missili ve li paghiamo e a Salè ci pensiamo questo è il dato di riferimento e se viene meno ovviamente quell'interesse per come ho detto prima viene meno l'interesse di Carlos viene meno l'interesse di Thomas Graham ammesso che Thomas Graham avesse poi questi poteri di poter interloquire con un personaggio come Roberto da Silva quindi è una vicenda che è stata introdotta noi sappiamo per converso invece chi è Paolo Bellini avete la sentenza che ovviamente non potete utilizzare ai fini della prova per questo procedimento ma Paolo Bellini diciamo il percorso motivazionale ci porta a dire che Paolo Bellini era a Bologna con un certo ruolo e per conto di di persone alle quali era legato indirettamente tramite il il padre il senatore Mariani era un soggetto appartenente alla destra eversiva quindi non ha nulla che spartire con le cellule rivoluzionarie di Thomas Graham ed era quindi a Bologna per tutt'altri motivi rispetto a quelli di Thomas Graham che si trovava di passaggio per un inconveniente successo il giorno prima su questo e ultimo punto voglio anche affrontare il tema della conversazione telefonica intercettata nel 2013 Cran viene in Italia viene sentito la difesa nei motivi aggiunti ci diceva guardate che era intercettato e si è fatto beffe dei magistrati che lo hanno sentito li ha derisi questo è quello che scrivono questo non è vero questo non è vero perché nella intercettazione che vi ho prodotto nella sua integralità quando parla dell'interrogatorio dice io non ho detto niente non ho portato un memoriale cosa vera perché vi ho depositato l'interrogatorio di Thomas Graham ma soprattutto si riferisce ai magistrati e dice il procuratore e il magistrato sono persone di rispetto non c'è alcuna delisione di Thomas Graham dei magistrati che lo hanno interrogato perché in quel passaggio che cosa si può far credere Thomas Graham li ha presi in giro perché non ha dato la verità perché lui è il responsabile invece non è così Thomas Graham venne concordato all'interrogatorio tra il dottor Ceri e il difensore venne prodotto un manoscritto che agli atti ad alcune domande che si inserivano nel racconto non rispose ma certamente non ebbe un atteggiamento di derisione anzi di rispetto per come nella telefonata si evidenzia con questo penso di avere chiuso sulla sulla pista alternativa e mi addentrerei invece su temi più specifici ci avviciniamo piano piano alla posizione della destra perché vedete questo è un processo in cui più elementi si mettono più si rischia di spostare il fuoco da quella che è l'oggetto dell'imputazione ad altri temi è evidente che rispetto a questi non ci si può non confrontare nessuna procura degna di questo nome non può confrontarsi rispetto a questo dato però dobbiamo stare attenti a non farci fuorviare ne parliamo tre giorni ma non dobbiamo farci fuorviare perché qui il tema del processo è un altro e una volta chiarito che la pista palestinese e quindi a seguire Carlos e quindi ancora a seguire Kram non c'entrano nulla concentriamoci su quello che davvero è chiamato ad essere deciso da voi e allora proseguiamo con i motivi d'appello nei motivi d'appello a stretto giro si dice questo operazione terrore sui treni l'operazione terrore sui treni la riassumiamo per i giudici popolari brevemente si tratta di questo che è stato uno dei più grossi depistaggi della storia di questo processo ma anche forse della storia d'Italia perché diciamo accadde che cosa che il 13 di gennaio del 1981 fu fatto rivenire sul treno Taranto Milano all'altezza di Ancona no a Bologna proprio furono fatte trovare alcuni oggetti contenuti nella valigia che riconducevano direttamente alla all'indagine sulla strage di Bologna in particolare fu fatto ritrovare del materiale esplosivo che analizzato appariva in qualche maniera compatibile furono fatti ritrovare due biglietti aerei intestati a Dimitri Martin e le Grand Raffaele adesso ci entriamo in questa vicenda dei quotidiani due quotidiani francesi e due quotidiani tedeschi allora che cosa dice ovviamente questo fatto chiedo scusa fu compiutamente analizzato nella fase delle indagini fu compiutamente analizzato nella sentenza di primo e secondo grado e nella Cassazione e si concluse che era un depistaggio orchestrato dal Sismi per introdurre una pista alternativa a quella che fino a quel momento i giudici bolognesi avevano seguito tenete presente che il 2 agosto scoppia la bomba ci sono gli 85 morti a fine agosto vengono emessi i primi mandati di cattura si chiamavano ordini di cattura all'epoca nei confronti della destra e versiva italiana non c'era uno straniero e dal 28 agosto in avanti adesso vi dico che cosa accadde per farvi capire come il depistaggio sia dietro l'angolo allora l'origine di questa vicenda è diciamo sto per dire delle cose molto gravi ma purtroppo molto vere anche è risalente noi arriviamo al 13 gennaio del 1981 però dopo aver percorso una serie di date che adesso vi illustro la prima è questa nella prima decade del settembre 80 sto leggendo la sentenza Albiani passata in giudicato su questo punto ci fu un abboccamento tra Licio Gelli e tale Elio Cioppa Elio Cioppa era il capocentro dei servizi di Roma piluista si scoprirà dopo che era un iscritto alla P2 e questo incontro avviene dopo qualche giorno dall'emissione degli ordini di cattura nei confronti della destra italiana si dice che cioè Elio dice ma qui state sbagliando tutto la vera pista è la pista internazionale da questa imbeccata a Elio Cioppa parallelamente che cosa accade che il generale Santo Vito all'epoca direttore del Sismi iscritto anche che gli ha la P2 si irritò perché il procuratore di Bologna elogiò l'operato del SISDE nel primo sviluppo delle indagini e disse ma insomma noi siamo più bravi era un po' una gara a chi era più bravo tra i due servizi dell'epoca per cui che cosa succede l'orchestra una vicenda che diciamo ha delle incredibili che è questa convoca nei suoi uffici insieme a Francesco Pazienza il cui nome certamente non vi sarà ignoto che all'epoca era un soggetto che agiva a piene mani dentro quella struttura convoca un giornalista il giornalista Barberi e gli consegna un dossier dove si fa riferimento a delle situazioni internazionali che potrebbero comunque avere diciamo rilievo nella nelle indagini sulla strage il giornalista studia e pubblica un articolo il 15 settembre 1980 un dossier dal titolo La grande ragnatela si comincia diciamo a instillare la pista alternativa no che cosa accade che quell'articolo non fu ritenuto troppo forte per diciamo distogliere l'attenzione degli inquirenti per cui diciamo seguì un ulteriore incontro in cui erano presenti Pazienza Giovannone il nostro Giovannone del Capocentro di Beirut e questo lo si ricava dall'agenda di Pazienza e in quell'incontro Giovannone disse questo è tutto riportato nella nella sendenza Albiani allora l'articolo La grande ragnatela non è un articolo determinante adesso ci penso io diciamo a intervenire e tramite la porena intervistano tal Abu Ayad che era un dirigente palestinese evidentemente conosciuto da da Giovannone e in questo articolo Abu Ayad sostanzialmente dice guardate Grassaggio di Bologna per la sua dovete andare a investigare nella componente maronita falangista quindi di estrema destra libanese nei cui campi si addestrano terroristi italiani qui si annida poi un punto diciamo frainteso dalla difesa il 19 settembre viene pubblicato sul Corriere del Ticino questa intervista che vi ha dato la difesa e il 20 settembre accade questo il procuratore della Repubblica di Bologna che era in strettissimi rapporti con il generale Musumeci che sarà implicato nella vicenda del terrore sui treni scrive una lettera ai servizi di informazione dicendo di investigare sulla vicenda narrata dal giornale è il primo atto siamo al 19 settembre è il primo atto di ingresso ufficiale dei servizi nell'indagine sulla strage di Bologna l'indagine viene poi formalizzata cioè all'epoca il pubblico ministero poteva tenere la 40 giorni l'indagine dopodiché doveva proseguire un altro giudice che era il giudice istruttore e il quarantesimo giorno scadeva il giorno 21 di settembre quindi a stretto giro il 19 viene pubblicata il 20 il dottor Sisti fa questa richiesta ai servizi e il 21 viene pubblicata e il 21 viene formalizzata l'inchiesta cioè viene passata al giudice istruttore ma viene passata in una maniera strana e Albiani lo sottolinea questa cosa qua viene passata con una notazione in calce in cui si dice al giudice istruttore che avrebbe dovuto fare le indagini guarda che io ho saputo alcune cose e ti devo sentire come testimone per cui astieniti fondamentalmente tant'è che l'indagine l'ha prese il dottor Gentile che è un nome che più avanti sentirete perché è stato introdotto a piene mani dalla difesa in tutta questa vicenda il dottor Sisti non si limita però a questo perché sempre dagli accertamenti fatti in primo grado nell'ottobre del 1980 quando lui già non era più procuratore della Repubblica fa una delega del tutto informale al vertice dei sismi chiedendo di investigare su una serie di quesiti che portavano dritto dritto a una pista internazionale allora lui come capo dell'ufficio internamente aveva i sostituti che avevano arrestato il 28 di agosto appartenenti all'area versiva della destra italiana quindi una pista interna parallelamente e di nascosto perché quella delega fu scritta in un bar addirittura si diceva guardate dall'altra parte dateci una mano dall'altra parte dopo averli fatti entrare a seguito l'intervista di Giovannoni ebbene in quella delega che voi ritrovate nella sentenza Albiani c'è in nuce tutto quello che accadrà il 13 di gennaio 1981 e cioè l'operazione sui treni che trova quindi la sua matrice e questo è un fatto diciamo di inaudita gravità proprio nei servizi in particolare nel generale Musumeci che poi verrà poi condannato per questo fatto ha vallato tuttavia ma all'epoca diciamo non si sapeva tutto questo si è scoperto dopo soprattutto diciamo da un comportamento quanto meno irregolare della massima autorità giudiziaria bolognese la delega era una delega inusuale non si poteva fare primo perché non si possono delegare i servizi a fare attività di indagine giudiziaria secondo perché il dottor Sisti non era più procuratore della Repubblica eppure quella delega con quella informativa quella delega portò ai fatti del 13 di gennaio 1981 perché a seguito di quella delega diciamo si costruì una fonte si costruì tutta l'operazione del 13 gennaio 1981 e si introdusse la pista alternativa è una pista qui è inutile parlare libanese palestinese o quant'altro perché diciamo nel depistaggio ciò che conta è buttare fumo è mettere una cortina fumogena per cui chi indaga non vede più non vede più quindi arrivano colpi possono essere stati libanesi possono essere stati palestinesi e quindi ti perdi in una montagna di ipotesi che ti portano lontano allontanano i tempi e rendono più difficoltosa la verità la tecnica del depistaggio è quella di mettere insieme fatti veri e fatti non veri in una informativa in maniera tale che il fatto non vero annacqua rende torbido anche il fatto vero e quindi lo fa perdere di credibilità lo vedremo bene in alcuni documenti citati proprio dalla difesa questi fatti dell'operazione del terrore sui treni che diciamo cui seguirono molte informative secondo la difesa in realtà sono fatti che non mirarono a diciamo depistare Dainar ad allontanare la verità Dainar ma addirittura dice la difesa tutte le informative che seguirono l'operazione del terrore di treni erano dirette proprio a fare individuare Mambro e Fioravanti quindi addirittura un'operazione di impistaggio e non di depistaggio così viene definita perché dice questo la difesa e poi vediamo come rispondiamo a questa cosa perché nella informativa che segue l'operazione terrore sui treni si dice questo c'è un'informativa 24 febbraio 81 Santo Vito la deposita direttamente alla procura della Repubblica con cui si dice l'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnato sul trato 514 a due cittadini francesi ad opera di tali Legrand Raffaele e Dimitris Martin Costoro sarebbe orientato in Francia in aereo e c'erano i due biglietti questi biglietti sarebbero stati acquistati a Bari da Giorgio Vale il quale era incaricato di tenere i gruppi di tenere i contatti tra il gruppo di terza posizione FANE che è un'altra organizzazione eversiva e il gruppo Hoffman un delirio non si capisce cioè si introducono 7-8 elementi di disturbo che portano ad una nebbia investigativa rispetto alla quale ci vorranno anni per superarla due cittadini francesi Legrand Raffaele e Dimitris Martin i due biglietti questi biglietti intestati a questi cittadini sarebbero stati presi da Vale e qui c'è il dato quello vero che annacqua attenzione perché Giorgio Vale era un NAR anzi era un terza posizione e poi diventato NAR amico intimo di Fioravanti e Mambro per cui no c'è il dato forviante del biglietto francese ma il dato vero di Vale in un'altra informativa poco dopo si dice addirittura che Vale aveva una base d'appoggio per fare tutto questo ad Imperia per cui vai a vedere se in Imperia c'è la base di Vale quindi c'è il dato vero indirizzante che potrebbe essere indirizzante che è quello di Giorgio Vale unito a un dato falso che ti diciamo rende nullo anche il dato vero perché questa storia dei biglietti acquistati a Bari non era vera questa storia dei biglietti del covo di Vale Imperia non era vero e tutta questa vicenda non era vera perché come viene fuoco come salta fuori che poi questi sono stati condannati per questi fatti nel 1984 quindi siamo a distanza di tre anni queste informative sono dell'81 fate attenzione alle date mi rendo conto che non è semplice ma nel 1984 la procura di Roma indaga sul sismi e su alcune diciamo peculati uso in debito di beni e nell'ambito di questa indagine scopre che l'operazione terrore dei treni del 1981 fatta a Bologna è stata orchestrata dai vertici del servizio segreto cioè da Musumeci da Belmonte il Santo Vito se l'è cavata perché perché è morto e soltanto dopo si arriverà a mettere insieme i pezzi della vicenda per come ve li ho raccontati prima cioè dalla Genesi da dove parte la Genesi che cosa ha comportato nell'81 ma se nel 1984 la procura di Roma non avesse scoperto queste malefatte la questione non sarebbe saltata fuori e allora la difesa dice è un impistaggio perché c'è il nome Medivale non solo perché c'è il nome Medivale in questa informativa ed è un impistaggio perché i due cittadini che vengono descritti somaticamente assomigliano molto a a Mambro e scusate a Fioravanti e Cavallini ed ancora dice è un impistaggio perché risulta vero che nel volo nei biglietti aerei che recavano certe tratte in tratte analoghe vi erano i voli i nomi di Fioravanti quindi l'assonanza con Fioravanti è certa il nome di Bottagin che era un nome di copertura utilizzato da Cavallini quindi la difesa dice questo cioè i due erano facilmente identificabili Vale era un loro amico i biglietti effettivamente c'erano delle liste che riportavano questi nomi tutto questo ci fa dire che quella informativa falsa in realtà non era finalizzata a depistare Dainar ma a impistare verso Dainar per coprire i palestinesi questo è sempre il discorso il discorso di fondo e allora andiamo a fondo a questa vicenda e vediamo come rispondere non rispondo io su questa vicenda ci sono le sentenze passate in giudicato che l'hanno analizzata e affrontata direttamente e vi riporto alcuni dati giusto per ecco qui la prima sentenza che si occupa di tutta questa vicenda è quella dell'11 luglio 88 della corte di sede di Bologna la sentenza di primo grado descrive minuziamente tutta la tecnica di depistaggio seguita da musumeci e soci che è consistita nel riprendere note di polizia dove si mischia il vero e il falso rendendo impraticabile ogni attività investigativa il dato forte di questa sentenza che in qualche maniera smonta la tesi difensiva è questo allora uno dei motivi uno dei motivi che la difesa pone a base è questo negli atti del sismo noi abbiamo trovato la lista dei passeggeri dei voli indicati in quei biglietti sequestrati nell'81 in cui vengono annotati fiorvanti e bottagini ok lo ridico per attenzione nell'81 vengono ritrovati due biglietti intestati a due nomi fasulli che erano le grandi e l'altro soggetto nell'84 presso la sede del sismo viene trovata una lista di passeggeri non proprio di quei voli ma di voli che in qualche maniera diciamo potevano essere ricondotti a quei due biglietti in queste due liste c'è fiorvanti e bottagini quindi quei due biglietti in realtà portavano direttamente a loro per questo ci sarebbe diciamo una indicazione verso i NAR il punto però è questo che queste benedette liste furono trovate nel 1984 e allora se io che sono del servizio voglio indirizzare l'indagine verso Fioravanti e Cavallini e predispongo delle liste di passeggeri le do direttamente non me le tengo nei cassetti dei servizi per tre anni dove vengono scoperte casualmente questo è il punto di fondo cioè se io intendo indirizzare le indagini ai tuoi confronti do anche alla magistratura o alle forze di polizia gli elementi per identificarti subito se me li tengo e me li scopro dopo quattro anni vuol dire che io all'epoca non avevo alcuna intenzione di impistare le indagini questo è il punto di fondo che tutte le sentenze che hanno analizzato questa vicenda hanno rimarcato lo dice l'estensore Albiani se si fosse inteso criminalizzare Fioravanti e Cavallini il sismi avrebbe dovuto inserire i loro nomi esplicitamente in una delle tante informative trasmesse all'autorità giudiziaria così come era stato fatto per Vale Macca Marletta Fatigato cioè susseguirono tante informative in cui venivano ogni tanto buttati dentro i nomi di personaggi della destra non si comprende guardate cosa dice è terribile l'escamotage di far figurare il 13 gennaio in partenza con destinazione Parigi e Germania sotto il falso nome degli intestatari dei biglietti non si comprende questo escamotage senza poi supportare l'affermazione col deposito della lista se tu hai la lista già dall'81 e dici che sono loro la dai invece che cosa fai la tieni in un cassetto e se non ci fosse stata la procura di Roma nel 1984 non sarebbe mai saltata fuori posto che questo è il compendio probatorio della sentenza Albiani ma volevo leggervi perché ho riportato quella del 94 anche la sentenza vecchio in cui si dice questo addirittura la sentenza vecchia va ancora più a fondo mentre Albiani si limita a dire guardate che se io voglio diciamo fregare qualcuno o do gli strumenti mettermi gli ho dati il dottor il sensore vecchio sentenza 94 sempre siamo nel processo Fioravanti-Vambro ti dice che a ben vedere le caratteristiche fisiche di Fioravanti e Cavallini non rispondevano affatto alle indicazioni provenienti dal sismi perché in quella informativa non solo c'era una sorta di descrizione fisica e il dottor vecchio dice non rispondevano affatto alle indicazioni provenienti dal sismi Fioravanti infatti non aveva fisico prestante ed era dubbio che Cavallini avesse la leggera calvizia e ancora sulla vicenda dell'acquisto dei biglietti la Corte rileva un'incongruenza forte perché sottolinea che non c'era possibilità che quei biglietti fossero stati acquistati da Vale perché i biglietti erano stati acquistati a Bari il 12 gennaio 80 e quella indicazione di Bari sapete perché è stata messa perché i NAR avevano un covo lì vicino in un posto in provincia di Taranto che si chiamava Gandoli quindi diciamo anche qui c'è il dato vero che è la Puglia il dato falso che è Bari e Gandoli e chi legge questa informativa perde completamente la bussola e questo viene rimarcato e inoltre si dice questo nel rapporto 2 febbraio 85 che approfondisce la lista dei passeggeri si sottolina questo che in quella lista i nomi sono diversi perché in una c'è Fioravanti mentre l'imputato si chiamava all'epoca Fioravanti e con Bottagin che era diciamo lo pseudonimo di Cavallini non era Bottagin ma era Bottacin non Bottagin quindi ci sono degli elementi di distonia ulteriori che fanno ritenere che non di impistaggio sia trattato ma di vero e proprio depistaggio in Cassazione fu affrontato nuovamente questo discorso e guardate che cosa dice la Cassazione dopodiché chiudo su questo punto era stato fatto nei motivi d'appello come è stato fatto qui anche all'epoca i difensori erano gli stessi o diciamo il gruppo era uguale si è portato il tema dell'impistaggio in Cassazione è stato guardate che la sentenza però non ha motivato sulla questione dell'impistaggio no? la Suprema Corte nel ritenere infondato il ricorso pagina 129-130 dice questo la sentenza impugnata cioè quella del dottor Vecchio non si è affatto sottratta all'onere di verificare se le informative che il servizio ha predisposto coinvolgevano anche esponenti italiani del terrorismo di destra questa indagine sollecitata è stata compiuta ma i suoi risultati lungi dall'accreditare l'innocenza degli imputati si è rivelata utile per giustificare il convincimento della loro colpevolezza infatti virgola la presenza di Giorgio Vala d'Imperio ed il suo asserito intervento per l'acquisto in un'agenzia di Bari dei due biglietti intestati ai soggetti che vi ho detto prima si dimostrarono il risultato di una vera e propria invenzione non appena su quelle notizie gli inquirenti potessero svolgere gli opportuni accertamenti Vale non era mai stato in quell'appartamento ad Imperia e non aveva acquistato i biglietti e una volta dimostrato agevolmente che Vale e qui vi dice la Cassazione in cosa consiste il depistaggio e una volta dimostrato agevolmente che Giorgio Vala non potrebbe essere coinvolto in quella vicenda era più logico dedurre che quella indicazione non sarebbe mai potuta servire per risalire a Valerio Fioravanti cioè è quello che vi dicevo prima se mi rei un dato vero e un dato non vero l'accertamento del dato non vero rende non vero anche ciò che è vero chiedo scusa per il bisticcio ma il concetto è questo inquino metto dei virus dentro e il virus fa malare anche la parte sana di un'eventuale informazione e allora che cosa c'è da dire che questo motivo d'appello che ripropone ancora una volta la questione dell'empistaggio è ampiamente superato da da ciò che vi ho letto e da ciò soprattutto che vi ho ricostruito perché se a monte del depistaggio c'è l'Iciogelli perché questo emerge dalla sentenza Albiani e questo dobbiamo legare con l'agenda di Francesco Pazienza dire che Gelli è a monte di un depistaggio per coprire il loro moro perché di questo questa significa dire che Gelli copriva i palestinesi e questo è un dato che non sta in cielo e ne è in terra da nessuna parte voi lo vogliate girare è un dato illogico rispetto alla persona e al soggetto che ha posto in essere questo tipo di depistaggio allora detto questo possiamo passare a un altro argomento che che affronta la difesa già entrando nello specifico e mi addentro a parlare dell'attendibilità di Massimo Sparti per i giudici popolari lo riassumo brevemente dobbiamo d'ora in poi distinguere il processo Fioravanti Mambro Maggiorenni e il processo Minorenne Ciavardini perché la difesa nell'atto d'appello attacca e cerca di smontare quelle che sono state delle prove cardine delle condanne di quei processi e allora Massimo Sparti era un soggetto legato alla banda Naruno per intenderci cioè a quella primo filone di investigazione che portò al processo denominato Naruno in cui c'erano imputati anche Fioravanti e Pedretti se non sbaglio e altri soggetti ed era imputato anche Massimo Sparti quindi era un soggetto sodale vicino a Valerio Fioravanti non era uno che era passato lì per caso al quale Fioravanti fece una confidenza era un soggetto che si prestava e aveva il ruolo fondamentale all'interno di quell'organizzazione di procurare dei documenti falsi questo è lo specifico compito di Sparti in quella indagine Sparti viene arrestato nell'aprile del 1981 e assume un atteggiamento di collaborazione con l'autorità giudiziaria descrivendo fatti e responsabilità in relazione sia a rapine sia soprattutto alla detenzione di armi per conto del gruppo di cui Fioravanti faceva parte e che lui stesso si era prestato a nascondere mi pare in cura di vetralla sono dati questi tutti accertati quindi Sparti non è un soggetto che piove dall'alto e ce lo troviamo qui a dover discutere di un soggetto che è sconosciuto era ben conosciuto Massimo Sparti quando viene arrestato nei suoi interrogatori dice una cosa che riguarda la strage di Bologna ed è quella che rappresenta uno dei cardini della sentenza Fioravanti-Mambro che è questa guardate che il 4 agosto del 1908 cioè due giorni dopo la strage venne da me vennero da me anzi Mambro e Fioravanti con una richiesta urgente di un documento di identità per Francesca Mambro e era assolutamente preoccupato perché era il giorno della strage lui era a Bologna e commentò hai visto che botto io ero a Bologna con un certo travestimento e ho timore che la Mambro sia stata riconosciuta attenzione a questo passaggio perché diventerà poi un passaggio fondamentale quando parliamo della Mirella Cuo quindi Sparti fornisce una prova orale di aver appreso dal diretto responsabile la partecipazione alla strage che cosa dice la difesa no l'intento è chiaro no la difesa affronta da un lato i temi di prova generale che riguardano gli altri cori siccome Cavallini non si stacca dagli altri tre minando alla base le prove di quelle sentenze è evidente che l'effetto favorevole si riverbera anche sulla posizione di Cavallini cioè non viene difeso direttamente o meglio per alcuni aspetti sì però generalmente si mira con l'atto d'appello dell'avvocato Pellegrini di attaccare le prove per i processi già passati in giudicato quindi le prove che hanno sostenuto l'accusa nei confronti di Fioravanti e Mambro e Ciavardini quindi si attacca Sparti allora Massimo Sparti si dice che è un test falso perché innanzitutto perché ebbe degli sconti giudiziari rispetto alle dichiarazioni che andò a fare fu trattato bene ha dato una mano e lo Stato lo ha ripagato poi Sparti non era Roma all'inizio di agosto non è vero che lui il 4 agosto trovasse Roma insieme alla moglie e al figlio Stefano i documenti che erano stati richiesti dalla Mambro non erano per la Mambro ma per Fiore e Adinolfi quindi per due altri soggetti e il difensore richiama nel suo atto d'appello tutta la vicenda relativa tutta una sua memoria presentata nei confronti di Massimo Sparti in un altro processo ora io su questa metodologia una cosa la devo dire perché il tu attacchi Massimo Sparti dici che non è credibile e mi porti una memoria confezionata oltre vent'anni fa messa in un processo che ha avuto una sua un suo itero una sua fine una memoria che è già stata valutata cioè non mi porti nulla di nuovo per dirmi che Massimo Sparti è un test inattendibile mi porti degli elementi che già hai sostenuto all'epoca e che già sono stati vagliati negativamente è vero che nel processo Cavallini si devono rivalutare quelle prove no cioè si possono rivalutare anche quelle prove per vedere se quel dichiarato si attaglia Cavallini ma nel momento in cui tu non mi differenzi le posizioni tra Mambro Fioravanti Cavallini e Cavallini è evidente che o mi smonti quella prova per altra via oppure quella prova mi vale anche per l'imputata attuale questo è un processo ovviamente logico e allora che cosa succede la attendibilità di Sparti è stata ribadita in dieci dieci sentenze passate e giudicato cioè quello che Massimo Sparti ha detto è stato ritenuto attendibile è stato preso in considerazione anche tutta la la il contrasto difensivo e quindi quei testi che potevano metterlo in difficoltà e cioè la venanzio e la torchia la venanzio era la moglie la torcia era la domestica o viceversa che hanno detto delle cose parzialmente diverse e è stata esaminata tutta la documentazione relativa alla finta malattia di Sparti insomma le sentenze hanno posto una pietra tombale io le ho riportate tutte è evidente che non ve le leggo perché però diciamo quantomeno le numero se possiamo dire così perché voglio passare alla vicenda di Stefano Sparti che invece è il dato nuovo e alla vicenda delle mere la cuochi che è un dato nuovo però prima di passare a questo vi dico sentenza 11 luglio 88 estensore Albiani sulla tendibilità si dice le dichiarazioni di Sparti sono perfettamente credibili era una persona idonea a ricevere quelle confidenze perché era idonea perché era un sodale di Valerio Fioravanti nel processo Naruno Sparti ebbe delle fu un divago o meglio fu sempre disse sempre la stessa cosa tranne che in un'occasione quando diciamo mise un po' in dubbio anche la veridicità di quello che aveva detto o il ricordo di quello che aveva detto ma spiegò anche questa motivazione perché in una delle sue tante deposizioni questo è giusto che i giudici popoli lo sappiano bene Sparti venne minacciato dalla moglie di non di sottrazione di non fargli vedere più i figli se non avesse ritrattato quelle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Valerio Fioravanti e di questo ne danno atto i giudici cioè non è che è qualcosa che non sia stato già valutato prendono atto che in una fase particolare della sua vita Sparti ha preso una via diversa ma ne danno spiegazione e dicono il perché ha detto il falso era minacciato e questo fatto è vero perché venne fuori da una lettera sequestrata in tempi non sospetti allo stesso Sparti nel 1986 ma entriamo in un dettaglio che vi porterebbe solo ad annoiarvi sentenza vecchio le dichiarazioni di Sparti rivelano assoluta coerenza interna perché i comportamenti descritti e le affermazioni seguono un filo ineccepibile può dirsi dunque accertato che Sparti ha riferito eccetera eccetera Cassazione su vecchio quanta la dichiarazione di Massimo Sparti la sentenza impugnata ha precisato nel corso del procedimento che si avevano subito numerose relazioni pur restando inalterate il nucleo essenziale già la corte del sede di Bologna si era posta il problema quindi ti dice la Cassazione quella motivazione era valida arretto non c'è bisogno di annullare sentenza 31 gennaio 2000 Massari entriamo nel processo del minore Ciavardini Sparti ha tenuto fermo la sua versione per anni per tutto il processo riguardante i maggiorenni ed anche in questo processo perché fu chiamato anche nel processo Ciavardini come si avrà avuto modo di rilevare il racconto di Sparti ha attraversato un ripensamento e patito sbavatura la cui entità tuttavia non è mai apparsa e non appare tale da compromettere nella validità cioè viene affrontato il punto non è che ci siamo nascosti ci sono nascosti i giudicanti dietro un dito e ancora le sentenze successive le sentenze successive diciamo confermano il dichiarato sui benefici processuali perché questo è un altro punto in cui insiste la difesa in cui dice ma il Sparti ha ottenuto dei benefici la questione è stata affrontata e risolta nell'ambito del procedimento 95397 perché che cosa accadde questo è dopodiché se forse ci fermiamo e vi lascio un attimo qui che Massimo Sparti fu anche denunciato per aver fatto queste dichiarazioni e fu oggetto di un procedimento per calunnia aver calunniato Fioravanti e Mambro questo procedimento analogamente al procedimento Cram ha avuto un suo iter e si è chiuso con un'archiviazione ma non è che si è archiviato il giorno dopo la denuncia ci sono decine di Faldoni che hanno approfondito la figura di Massimo Sparti perché cos'era accaduto che era accaduto che nel 1995 in prossimità del giudizio di Cassazione a carico dei Maggiorenni Valerio Fioravanti è stato sentito dal dottor Salvini luglio 1995 in quella sede diciamo fu sentito senza difensore era imputato come testimone secco ma in quella sede disse tra le tante cose che Sparti era diciamo un bugiardo e che aveva imbrogliato i giudici per essere scarcerato inventandosi un falso tumore facendo nomi e cognomi anche andate alla clinica XY li troverete la documentazione fasulla circa questa malattia quindi diciamo queste dichiarazioni furono mandate da Salvini dal dottor Salvini a Bologna si aprì un procedimento che si chiuse ma nonostante questo la difesa dice guardate che Sparti non è vero ha mentito fu aiutato a uscire inventandosi un falso tumore per le dichiarazioni accusatorie che fece nei confronti di Fioravanti anche questo argomento utilizzato dalla difesa è superato perché il dottor Giovagnoli che fece quell'indagine andò a prendere tutta la documentazione sanitaria all'epoca esistente e constatò che Sparti fu operato in maniera devastante subì una laparotomia che diciamo ma si conciliava con una diagnosi finta cioè con l'aver finto la malattia perché subì un'operazione ripeto invasiva al punto tale che la sola il solo intervento chirurgico bastava ad escludere la falsità del dichiarato e anche sotto questo profilo quindi ancora oggi che si viene a riferire di questa malattia trova diciamo trova ostacolo nell'indagine fatta proprio su questo specifico punto sentenza 2002 della Corte Appello Senzioni Minorenni anche su questo punto si ribadisce l'attendibilità di Sparti analogamente la sentenza della Cassazione 2003 che è la prima sentenza Ciavardini quella che annullò nel corpo della sua motivazione i giudici affermano e riaffermano la credibilità di Sparti la possibilità di avere queste conoscenze da parte della da parte di di Fioravanti Cassazione 2007 che è quella che segue la sentenza Palma per così dire si riconferma l'attendibilità delle dichiarazioni di Sparti nonostante questi ondeggiamenti quindi nulla di nuovo sotto il sole sotto questo profilo veniamo a quello che invece la difesa ha cercato di introdurre in questo procedimento per sottolineare un po' l'inattendibilità dei Sparti ha portato nel primo processo la testimonianza del figlio Stefano tenete presente che negli altri processi la difesa portò a testimoniare la moglie e la domestica e entrambe furono diciamo ritenute inattendibili nel loro racconto e nello smentire che Sparti era a Roma il 4 agosto in questo nuovo processo si porta il figlio quindi un nuovo testimone nulla di il legittimo anzi di doveroso fatto è che la deposizione di Stefano Sparti è una deposizione che il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto inattendibile per una serie di elementi perché sostanzialmente avevano stati che poi purtroppo è deceduto anche in circostanze non so stavano chiarete dalla magistratura ma è deceduto di recente in quel dibattimento che cosa disse sostanzialmente si ricordava benissimo solo due cose anzi solo una cosa perché il 4 agosto il padre certamente non era a Roma e quindi non poteva aver incontrato Fioravanti e Mambro del 1980 tutte le altre circostanze della sua vita la separazione dei genitori il luogo dove il padre era ricoverato il luogo diciamo dove la distanza tra cura di vetrale e Roma c'è tutta una serie di circostanze importanti invece le aveva completamente rimosse ricordava queste due cose uno che il 4 agosto il padre non era certamente a Roma e due ed è qui l'elemento nuovo che in fin di vita quando il padre lo chiamò e gli confidò di avere detto il falso sulla vicenda della strage di Bologna cioè non era vero che lui il 4 agosto aveva ricevuto Fioravanti a Mambro a Roma per fargli documenti falsi e che si era inventato questa cosa e quindi in punto di morte liberarsi la coscienza e rendere portavoce di questa verità il figlio Stefano queste due cose la corte lo ritiene inattendibile perché sostanzialmente rispetto a questo racconto diciamo l'aver non l'aver focalizzato per l'aver focalizzato solo questo ricordo a discapito di tutti gli altri lo rende sostanzialmente un testimone inattendibile testimonianza inattendibile confermata anche da quella sentenza che gli abbiamo depositato sulla falsa testimonianza di Stefano Spatti che benché morto diciamo è stato giudicato nel senso che la motivazione della sentenza affronta il dichiarato non ritenuto vero di Spatti quindi diciamo abbiamo un provvedimento giudiziario che conferma il giudizio di inattendibilità del primo grado ma c'è un altro elemento e poi su questo chiudo che vorrei dirvi che diciamo ci illumina su questa vicenda quando è che muore Massimo Spatti questo è il punto perché la data del decesso è la data che coincide con l'acquisizione di questa notizia da parte di Stefano Spatti ok perché la domanda che non si fa è questa perché la tiri fuori a distanza di è morto nel 2002 a distanza di 21 anni questa circostanza no è un dato sospetto allora Stefano Spatti Massimo Spatti muore nel 2002 e quindi Stefano Spatti è in possesso di questa notizia dal 2002 perché non l'ha detta prima nel 2002 erano ancora pendenti i processi il processo a carico del minorenne Ciavardini perché come vi ho detto prima le sentenze risalgono al 2002 e al 2004 addirittura la sentenza d'appello la sentenza palma tanto per diciamo identificarla con un nome che mi è molto caro è del 2004 quindi la domanda che ci si fa è questa tu hai avuto una occasione gigante per dire a caldo quello che aveva preso da tuo padre te lo sei tenuto dentro e lo vieni a dire a distanza di 21 anni con una deposizione che fa acqua da tutte le parti per cui diciamo il dato che è annotato nella sentenza ma va rimarcato a mio avviso perché è un dato fondamentale è questo tu sai questa notizia non te la spendi non te la giochi nel processo del 2002 aspetti 21 anni per tirarla fuori dopo aver fatto un'intervista in tv nel 2007 2008 quindi diciamo quando il processo era già finito e allora è un dato sospetto e diciamo mi viene da dire che posto che la Venanzi e la Torchia che erano i due testimoni iniziali erano già state ritenute inattendibili da tutte le sentenze che sono occupate in questo caso è evidente che attraverso Stefano si voleva introdurre un elemento di novità che però è franato anch'esso rovinosamente sia per quello che ha detto l'estessore Leone sia per quello che ha detto il giudice del Borrello nella sua sentenza e sia per quello che rimarco in questa sede io per la illogicità della della sotto il profilo temporale della propagazione della notizia prima questa prima colonna di Massimo Sparti è una colonna che regge per certamente nei confronti di Fioravanti e Mauro perché è stato ingiudicato ma regge comincia a reggere anche per la posizione specifica di Cerardini Mirella Cuoghi posso fare Mirella Cuoghi oppure è strettamente collegato non ci metto molto allora Stefano Sparti diciamo viene in qualche maniera suffragato nella sentenza perché questo è un punto delicato perché è un punto delicato e si dice guardate ci dice il giudice che Stefano Sparti ha detto appunto la verità perché c'è un testimone fondamentale di riscontro che è Mirella Cuoghi che ci descrive l'abbigliamento scusi Massimo Sparti chiedo scusa no perché c'è Mirella Cuoghi che ci descrive la stessa situazione nel senso che o quantomeno una situazione identica su un particolare cioè l'abbigliamento facciamo un riepilogo Fioravanti con la Mambro si recca il 4 agosto da da Massimo Sparti gli dice ho bisogno di questi documenti me li devi dare altrimenti tuo figlio Stefano non lo vedi più è molto preoccupato io era a Bologna ed eravamo travestiti da tedeschi questo è il punto focale che voglio mettere a fuoco con la corte arriva Mirella Cuoghi chiamata in primo grado e dice la mia attenzione è stata attirata da tre soggetti vestiti da tirolesi quindi che richiamavano l'abbigliamento tedesco e quindi la corte dice vedete questo testimone è un testimone che diciamo corrobora la dichiarazione di Sparti non solo per questo ma anche perché poi ha mezzo riconosciuto riconosciuto per intero la Mambro in un album fotografico allora io vi faccio questa osservazione perché la Mirella Cuoghi è stata fortemente attaccata nell'atto d'appello addirittura si richiamano anche degli stralci dell'atto d'appello della procura in cui si mette in dubbio insomma questo passo motivazionale per cui è un passo su cui bisogna fare attenzione questa corte ha a mio avviso molto opportunamente chiamato la figlia della Mirella Cuoghi perché era con lei in stazione l'abbiamo sentita il 19 di maggio se non sbaglio la quale che cosa ci ha detto mi ha detto io non mi ricordo niente di quella vicenda però sul punto fondamentale ci dice guardate che è vero che mia madre mi disse guarda questi come sono vestiti cioè che abbigliamento inadeguato hanno rispetto alla situazione 40 gradi due agosto quindi ci conferma la mamma su un dato importante e cioè sul fatto che c'erano tre soggetti vestiti strani diciamo da tedeschi inadeguati rispetto al contesto e allora dov'è che è la forza della dichiarazione della Mirella Cuoghi la forza della Mirella Cuoghi non è tanto nel riconoscimento che lei ha fatto della Mambro quanto nel fatto che Massimo Sparti descrive un Valerio Fioravanti estremamente preoccupato estremamente preoccupato perché dice la Mambro può essere stata riconosciuta da qualcuno questo è il punto non è il riconoscimento che la che la Cuoghi fa della Mambro o non è solo questo ma è il dato percepito da Valerio Fioravanti che si accorge che c'è qualcuno che li guarda in maniera insolita lo fa preoccupare oltremodo da andare immediatamente da Massimo Sparti per chiedere un documento per la Mambro palesando nella sua interessa questa preoccupazione palesando nella sua interessa questa preoccupazione e addirittura minacciando Massimo Sparti dice guarda che se non mi fai i documenti tuo figlio Stefanino non lo vedi più questo è quello che disse Massimo Sparti allora diciamo sotto questo profilo l'integrazione istruttoria fatta dalla Corte è un'integrazione istruttoria estremamente importante perché ci dà conto non tanto del riconoscimento quanto della verità del travestimento e della possibilità che Fioravanti abbia percepito di essere stato riconosciuto in questo caso può essere anche dalla Mirella Cuoghi tanto da minacciare Massimo Sparti di fargli un documento d'identità perché la Mambro poteva essere stata riconosciuta a Bologna questo è il punto che volevo diciamo introdurre oltre a tutto quello che ho scritto alla Corte sulla posizione specifica della Mirella Cuoghi così maltrattata è stata nell'atto di appello se possiamo chiudere ringraziamo e ci vediamo tra un'oretta va bene alle due un quarto noi andiamo avanti fino alle quattro e mezzo cinque veda lei come si l'orario lì veda lei qual è il punto giusto a seconda di quel che deve dire insomma quindi più o meno quattro e mezzo cinque veda lei quale è il punto migliore senz'altro allora eravamo arrivati prima della pausa alla riflessione sulla Cuoghi no e all'importanza diciamo del dato riferito dalla figlia della Cuoghi cioè della Mazzucchelli su quel particolare dell'abbigliamento che diciamo Mirella Cuoghi ha sempre riferito essere un abbigliamento dei tedeschi perché su questa vicenda tedeschi tirolesi mi devo un attimo rettificare la Cuoghi ha riferito nel corso della sua deposizione che diciamo i soggetti così vestiti erano erano dei tedeschi erano un'espressione dialettale che adesso ripeto e mi scuso perché non sono della provincia di Modena lei si rivolse alla figlia e dice ha sognato d'astichi cioè non sono neanche dei tedeschi la vicenda del tirolese che è stata introdotta diciamo nel corso dell'esame mira anche un po' a diciamo screditare sotto il profilo del racconto il narrato della Cuoghi ora rimangono quelle due domande sicuramente Fioravanti si percepì questa possibilità di essere stato riconosciuto e soprattutto c'è un dato molto forte come faceva Sparti a sapere anche di questo particolare dello stesso particolare che aveva rilevato la Cuoghi quindi ribadisco diciamo l'importanza di questa testimonianza non tanto per il riconoscimento quanto per la fortissima preoccupazione che creò in Fioravanti che giunse a minacciare Sparti come ho detto prima se non avesse ottenuto per la Mambro immediatamente quei documenti andiamo avanti nei motivi d'appello l'ulteriore passo che affronta la difesa è quello relativo alla telefonata che Luigi Ciavandini fece a Cecilia Loretti per differire il viaggio a Venezia qual è l'antefatto intanto chi è Cecilia Loretti per il il collegio in particolare per i popolari Cecilia Loretti era un'amica di Luigi Ciavandini era aveva una relazione con Marco Pizzari ed era amica di Elena Venditti fidanzata all'epoca di Luigi Ciavandini sono questi quattro ragazzi che ci interessano in questo frangente Luigi Ciavandini si trovava ospite di Cavallini almeno dal 24 di luglio del 1980 questo è un dato provato è un dato non in discussione e aveva fissato una gita a Venezia un incontro a Venezia con un incontro a Venezia con la fidanzata per il giorno 2 agosto fatto sta che il primo di agosto Ciavandini effetto una telefonata per informare gli amici di non venire a Bologna il 2 agosto ma posticipò quell'appuntamento al 4 di agosto e questa telefonata avvenne certamente diciamo al rientro all'incontro alla riunione che Cavallini Mambro Fioravanti e Ciavandini ebbero al rientro di Fioravanti e Mambro dalla Sicilia arrivarono a Treviso a Magliate Sera Fioravanti e Mambro nella notte tra il 31 e l'1 li andò a prendere Cavallini li portò a casa sua dove c'era Ciavandini e lì evidentemente Ciavandini fu messo al corrente che il 2 agosto aveva un altro impegno e da lì nasce la necessità di procrastinare il viaggio che cosa dice la difesa nei motivi d'appello ci dice che il narrato della Loreti è un narrato falso perché quella telefonata non è stata fatta il giorno 1 agosto ma è stata fatta il 2 di agosto perché su questo punto insiste della deposizione dell'Elena Venditti cioè le due ragazze vanno in contraddizione tra di loro a giudizio della difesa cioè l'una dice l'uno l'altra dice quella telefonata arrivò ma arrivò il 2 di posticipare il viaggio allora anche su questo punto devo ribadire quello che ho già detto in occasione della della posizione trattata stamattina su Massimo Spatti cioè che questo argomento è un argomento che è stato portato ampiamente nel processo a carico di Ciavardini dove c'era la stessa discrasia tra le due versioni e che fu risolto da quella corte con la inattendibilità della vendita venditti a favore della credibilità della l'oretti ma diciamo non è che la corte scelse così perché era più simpatica la l'oretti rispetto alla venditti la corte argomento in maniera assolutamente puntuale che la deposizione della venditti era inattendibile per la giustificazione che la venditti diede di quella telefonata e cioè disse che Ciavardini l'aveva informata di posticipare il viaggio al 4 perché non aveva dei documenti di copertura idonei circostanza questa che diciamo viene smentita adesso vi dirò il percorso seguito dalla corte nel processo Ciavardini per cui questa testimonianza viene diciamo resa non inattendibile o diciamo questa viene preferita la versione della l'oretti dunque la questione dei documenti la venditti dice ma Ciavardini ci disse che non aveva disponibilità di documenti è una questione che è stata ampiamente superata perché lo stesso Ciavardini quando fu arrestato fu arrestato nell'ottobre del 1980 per i fatti accaduti il precedente maggio a giulio Cesare riferì senza ombra di dubbio che lui nel periodo in esame quello che ci interessa cioè nel luglio agosto 1980 non aveva alcun problema di documenti cioè era in grado di potersi spostare liberamente e in maniera tutto sommato tutto sommato sicura perché dice questo Ciavardini all'inizio perché poi cambia versione anche questo diventa un punto importante perché quando accadono i fatti di Giulio Cesare sono fatti riferiti al maggio del 1980 dove parteciparono Ciavardini ma anche Cavallini e anche Fioravanti è un episodio accaduto davanti a una scuola a seguito della quale fu ucciso il poliziotto evangelisti questo è il in quell'occasione Ciavardini riportò anche una ferita e quindi diciamo si diede per qualche tempo ad un atteggiamento più riservato ma dopo quell'occasione lui entrò in possesso di un altro documento di un documento di copertura a nome Arena ok questo è successivamente a Ciavardini venne fornito un documento ulteriore a nome Flavio Caggiula ricordatevi questi nomi perché sono importanti nella ricostruzione quindi Ciavardini cosa dice dice io non avevo problemi i documenti falsi perché sostanzialmente avevo il mio documento Arena che fine fa l'altro documento Caggiula e qui devo fare una digressione per entrare in questa storia complicata il documento Caggiula era effettivamente nella disponibilità di Ciavardini unitamente al documento Arena ma fu consegnato nella notte tra il 31 e l'1 agosto 1980 a Fioravanti perché Fioravanti che in precedenza aveva un altro documento a nome De Francisci smarrì questo o meglio bruciò questo documento in questa maniera siamo al 10 luglio 1980 Fioravanti si trova a Roma dimentica il suo giubbotto con dentro due etili di cocaina tanto per non farsi mancare niente ma al di là della cocaina ci sono dei proiettili 38 mi pare insomma un discreto numero c'è soprattutto un indirizzo che riporta a tal De Francisci e alcune foto tessera che lo ritraggono smarrisce questo giubbotto la polizia lo trova partono le indagini e arrestano De Francisci perché dentro quel giubbotto il primo riferimento era quello di De Francisci ma perquisiscono anche l'abitazione di Valerio Fioravanti a quel punto Valerio Fioravanti capisce che il documento De Francisci è un documento bruciato perché lo hanno perquisito perché è venuto a sapere dell'arresto del vero De Francisci che gli aveva fornito la Generalità per fare quel documento e quindi che cosa succede lui dalla Sicilia dove in quel momento si trova parte si ferma a Roma due giorni e su questo poi ci torneremo quantomeno un giorno e mezzo dopodiché si ricongiunge a Cavallini e Ciavardini che sono a Tessera e in quella notte per sopperire alla questione del documento bruciato Fioravanti non ha più nessun documento gli viene dato il documento Cagiula che fino a quel momento l'aveva utilizzato Ciavardini non so se è chiara la ricostruzione ora il fatto che Ciavardini avesse a disposizione il documento Arena è un fatto che rende inattendibile la venditti laddove racconta che Ciavardini aveva problemi di documenti perché Ciavardini i problemi di documenti non aveva perché per l'appunto aveva il documento Arena e allora guardate in sequenza temporale quali sono le dichiarazioni ecco qua nel primo interrogatorio del 1980 quando fu arrestato dichiara che non aveva problemi di documenti nel periodo in esame il 5682 viene nuovamente interrogato e dichiara nei primi giorni di agosto non aveva alcun problema di documenti e quindi conferma la precedente dichiarazione confermata anch'essa l'udienza del 241084 quando viene messa a conoscenza delle dichiarazioni di Cecilia Loretti quindi sulla famosa telefonata per spostare il viaggio e in questo caso proprio lui dice di avere a disposizione non solo il documento Cagiula ma anche il documento Arena siamo nell'84 quando è che arriva il cambio di versione e il documento Arena sparisce? questo cambio di versione arriva nel 1986 e questa data non è una data casuale perché che cosa era successo nel frattempo? era successo che il processo a carico dei maggiorenni Fioravanti e Vambro era stato chiuso nella sua fase istruttoria cioè il giudice istruttore dottor Zincani aveva depositato l'ordinanza dell'invio a giudizio e aveva separato la posizione di Ciavardini perché era minorenne quindi doveva procedere l'autorità dei minorenni a questo punto Ciavardini che vede tutte queste cose vede bene di cambiare versione sparisce il documento Arena e rimane solo il documento Cagiula quello che poi è stato consegnato a Fioravanti sentite che cosa dice non è una è la sentenza leggo due righe non è una semplice coincidenza che l'imputato sette giorni dopo il deposito degli altri istruttori quelli di Zincani abbia radicalmente mutato versione su questa circostanza uno dei cardini dell'accusa per il diritto di strage era costituito dalla nota telefonata della Loretti in relazione alla quale non aveva retto la giustificazione di Ciavardini nell'interrogatorio reso nell'84 a dire dell'imputata la telefonata era stata causata un problema di documenti e si era dimostrata catastrofica la precedente affermazione del medesimo reso il 5682 quindi sono i giudici che danno atto che la sequenza temporale e il mutamento di versione nell'86 è un mutamento di versione assolutamente insostenibile si ritiene pertanto che il 21686 Luigi Ciavardini sostenendo di essere entrato in possesso del documento dei francisci che era il vecchio documento di di Fioravanti abbia fornito una falsa rappresentazione della realtà per cercare una via d'uscita dalle difficoltà probatorie che rischiavano di compromettere gravemente la sua posizione in relazione alla strage del 2880 quindi la versione della Venditti è una versione che viene ritenuta non attendibile sulla scorta delle stesse dichiarazioni di Ciavardini viceversa la dichiarazione della Loretti viene assunta a prova importante perché non vi era alcun motivo di differire il viaggio degli amici romani a una data successiva al 2 agosto se non per un impegno improvviso che Luigi Ciavardini aveva il 2 agosto che era quello improvviso nel senso che lui ne viene a conoscenza la notte tra il 31 e l'1 al rientro di Mambo Fioravanti o comunque è in quella sede che viene stabilita la data precisa ma anche questo è un punto sulla data precisa su cui torneremo quando parleremo di Cavallini nel dettaglio certamente Ciavardini è costretto a fare questa telefonata perché il 2 agosto dovevano essere da un'altra parte queste ricostruzioni vengono avallate sin dalla Cassazione e in particolare nella Cassazione del 2007 il processo Ciavardini che conferma la sentenza del 2004 c'era un punto rispetto al quale siano lamentati i difensori che avevano fatto il ricorso per Cassazione cioè un eccesso di giudizio di perimetro del giudizio secondo i ricorrenti in Cassazione la Corte d'Assise d'Appello del 2004 si era diciamo prodigata in una motivazione che non le competeva perché il perimetro del giudizio era diverso scrive la Corte rileva il collegio cioè la Corte che non ha pregio la censura difensiva secondo la quale la Corte d'Appello avrebbe travalicato i limiti propri del giudizio di rinvio a proposito della valutazione dei documenti di fioravanti della vicenda di cui stiamo parlando quindi diciamo è la stessa Corte di Cassazione che plaude alla motivazione della Corte d'Appello del 2004 che giudicava in sede dell'invio che si era preso alla briga di andare a ricostruire passo passo dichiarazione per dichiarazione la vicenda del documento del documento Cagiula e del documento Arena anche su questo diciamo torneremo più avanti perché alla fine che cosa alla fine che cosa è emerso che su questa particolare vicenda la dichiarazione della Loretti è una dichiarazione che pone una una prova importantissima per Ciavardini e la prova la pone in maniera talmente importante che quando si vedono il 4 agosto la prima domanda che fa la Loretti e la Venditti la prima domanda che queste due ragazze fanno a Ciavardini quando effettivamente si incontrano il 4 agosto è questa io e la Venditti chiedemmo a Ciavardini se non vi era una relazione fra la strage e la sua telefonata che faceva riferimento a gravi problemi questo è quello appena si incontrano collegano il rinvio del viaggio al fatto che il 2 agosto era era esplosa la bomba alla stazione di Bologna è un collegamento che fanno loro spontaneamente evidentemente ritenendo che ci fosse un coinvolgimento diretto di Ciavardini in questa vicenda questa deposizione è uno dei cardini la difesa cerca di smontarli io non posso far altro che richiamare tutte quelle sentenze che già hanno affrontato questo punto e che l'hanno in qualche maniera superato sentenze di merito avallate dal giudizio della corte di Cassazione altro punto della corte dei motivi d'appello attiene alla ferita di Ciavardini il fatto qual è il 28 maggio 1980 avviene questo conflitto a fuoco muore anzi viene ucciso evangelisti evangelista e durante lo scontro a fuoco Ciavardini riporta una ferita all'occhio una ferita visibile non visibile non si capisce bene comunque fatto sta che c'è una ferita e allora i difensori stigmatizzano un punto della sentenza Leoni perché a un certo punto la sentenza Leoni che cosa dice a pagina 507 afferma la sentenza che era sconsigliabile per Fioravanti Mambro e Ciavardini e Cavallini chiedo qui c'è un errore aver portato con sé a Padova Ciavardini in una passeggiata un sabato d'inizio agosto in un luogo affollatissimo dove c'era anche una caserma dei Carabinieri 507 della sentenza a questo punto la parante dice se era sconsigliabile portarlo in una situazione normale a maggior ragione vista la ferita era sconsigliabile portarlo a Bologna ed è questo uno di quei fatti che diciamo furono alla base della prima assoluzione allora qui c'è va sottolineato il fraintendimento in cui cerca di portare il difensore così argomentando perché la Corte fa quella affermazione che era sconsigliabile portarlo a Padova per una situazione effimera diciamo così lo fa per rimarcare l'inattendibilità delle versioni difensive dei responsabili e dello stesso Cavallini che hanno dichiarato in più occasioni di aver trascorso la mattina del 2 agosto a Padova lontano da Bologna no? cioè è inserita in quel contesto quella affermazione della sentenza Leoni che viene ripresa estrapolata dal suo contesto e alla quale si attribuisce un significato che non ha perché ripeto la sentenza Leoni fa questa affermazione per contrastare l'alibi portato sempre da tutti e quattro cioè che quella mattina non era una Bologna ma era una Padova in sostanza la Corte di primo grado distingue e sottolinea che la ferita di Ciavardini costitueva motivo per non esporsi a situazioni effimere questo è il punto come potrebbe essere una gita Padova ma non per la partecipazione materiale del medesimo alla strage in questo caso di Ciavardini ritenuta necessaria dai tre maggiorenni che lo coinvolsero e si va di che la questione della ferita di Ciavardini è una questione che portò all'annullamento della condanna in secondo grado o meglio da parte della Cassazione cioè la Cassazione la prima Cassazione disse qui dovete motivare questa questione della ferita perché diciamo se da un lato si dice che c'è la ferita e quindi non si può andare in giro dall'altro come si può sostenere che vada con una ferita del genere a commettere una strage o a partecipare o comunque avere un ruolo esecutivo ebbene la sentenza del 2004 che poi fu confermata diciamo supera abbondantemente questo rilievo e lo supera in che maniera lo supera dicendo che nonostante questa ferita Ciavardini nel periodo intercorrente dal maggio che era il giorno in cui diciamo si procurò quella ferita al 2 agosto 1980 si era reso responsabile di altri efferrati delitti tra cui l'omicidio del giudice Amato del dottor Amato ma aveva commesso anche una una rapina e quindi diciamo il problema della ferita era un problema ampiamente superabile semplicemente indossando un paio di occhiali e questo è quello che dice la sentenza del 2004 dei minorenni che è passata su questo specifico punto al vaglio della Cassazione per cui ritornando su questo specifico motivo quello che mi premeva far presente alla corte è proprio diciamo l'ottica giusta con cui leggere quella frase della corte d'assise che invece è stata in qualche maniera fraintesa o portata ad altre conseguenze nel motivo d'appello ulteriore argomento il movente dell'omicidio Mangiameli questo è un altro dei cardini delle sentenze di condanna sia per i maggiorenni che per i minorenni viene ripreso il movente dell'omicidio Mangiameli come una delle prove indiziarie fortissime che riconducono alla responsabilità per la strage degli imputati chi era Francesco Mangiameli allora Francesco Mangiameli è un siciliano ed era uno dei responsabili uno dei leader sicuramente il leader per la posizione siciliana della formazione versiva terza posizione era una delle tante formazioni nella galassia della destra versiva di quegli anni in cui vertici erano dati da Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi e nelle cui posizioni importanti c'era anche Francesco Mangiameli Mangiameli conosceva bene Fioravanti e Mambro e anche lo stesso Ciavardini perché nel mese di luglio aveva ospitato prima Ciavardini fino al 13 di luglio e immediatamente dopo dal 14 di quel mese fino al 30 la coppia Fioravanti e Mambro a casa sua al mare a Tre Fontane quindi un periodo di tempo molto lungo Mangiameli viene ucciso a Roma il 9 settembre 1980 cioè un mese e qualche giorno dopo la strage del 2 agosto e per questo omicidio sono stati condannati Cristiano Fioravanti che era il fratello di Valerio Valerio Fioravanti Francesca Mambro Giorgio Vale e Dario Mariani sono tutti giudicati con sentenza passata in giudicato nelle sentenze che dopo vi richiamerò il movente dell'omicidio Mangiameli quindi ucciso da Fioravanti Mambro e gli altri che ho scelto prima è direttamente riconducibile alla strage di Bologna nel senso che Mangiameli era stato reso edotto del progetto stragista e dell'evento che si doveva compiere di lì a poco ed aveva manifestato una opposizione all'intervento stragista indiscriminato e quindi diciamo diventava un testimone pericoloso diventando un testimone pericoloso la via per eliminare questo ostacolo era ucciderlo così come è stato fatto il 9 settembre 80 quindi il movente di quell'omicidio costituisce un ulteriore tema di prova nei confronti di Fioravanti Mambro Ciavardini e data la stretta connessione tra diverse posizioni anche Cavallini la questione di Mangiameli è una questione complessa la difesa sostanzialmente dice voi affermate tutte le sentenze affermano che l'omicidio di Mangiameli è un omicidio legato alla strage perché attiene all'eliminazione di un testimone ma nella sentenza che riguarda la condanna di Fioravanti e Mambro questa particolare che voi così tanto esaltate non c'è scritto perché la sentenza specifica sull'omicidio di Mangiameli non affronta il tema del movente e quindi lo lascia sullo sfondo non dice quella sentenza guardate che Fioravanti Mangiameli è stato ucciso per questo motivo fa leva su questa sentenza per dire per sminuire questo elemento che invece è un elemento fondamentale e allora anche qui nulla di nuovo sotto il sole nel senso che le sentenze che hanno affrontato questo tema a partire dalla sentenza Aldiani e anche la sentenza Cialardini si allineano tutte nel ritenere che il movente dell'omicidio Mangiameli è certamente ricollegabile alla alla strage di Bologna e che c'era questo interesse a ucciderlo perché Mangiameli era un soggetto che si era opposto io vi aggiungo alcuni elementi sulle sentenze che mi riporto che diciamo possono far luce su questo episodio e sul perché le sentenze diciamo che hanno riguardato questo procedimento individuano nell'omicidio Mangiameli un movente e la vicenda è questa la vicenda è questa allora Mangiameli il 17 luglio del 1980 ebbe un incontro a Roma con un tale che si chiama o si chiamava perché è morto Amos Spiazzi tenete a mente questo nome perché sto introducendo un fatto complesso e cercherò di essere quanto più chiaro possibile allora che cosa era accaduto della strage della strage vi erano state delle segnalazioni in epoca precedente al 2 agosto in particolare c'è stato un detenuto che si chiamava Vettore Presidio soggetto diciamo assai vicino alla cellula ordinovista veneta di Padova in particolare che si trovava detenuto e mandò a chiamare un magistrato un altissimo magistrato non un magistrato il dottor Giovanni Tamburino che era il magistrato di sorveglianza di Padova dicendo che avrebbe dovuto fare delle dichiarazioni importanti siamo al 10 luglio 1980 quindi 20 giorni 22 giorni prima del 2 agosto che cosa doveva dichiarare o meglio che cosa ha dichiarato Presidio a Tamburino dice guardi io sono venuto a conoscenza facendo poi anche nome e cognome del soggetto che gli ha dato questa notizia che la ci sarà che la destra ci sarà eversiva sta preparando un attentato un fatto così grave che ne parleranno tutti i giornali del mondo prima notizia seconda notizia c'è in cantiere l'uccisione di un magistrato veneto in particolare del giudice dottor Giancarlo Stiz il giudice Stiz era il giudice struttore di Treviso che scoprì per primo la pista nera di Piazza Fontana quindi risaliamo un po' nel tempo però prendete queste informazioni per il momento cosa succede che il dottor Tamburino ricevuta questa notizia la gira immediatamente ai carabinieri di Padova per quello che riguarda diciamo la tutela immediata del dottor Stiz per l'altra notizia in cui si diceva succederà un fatto di cui parleranno a tutti i giornali si rivolse al capocentro SISDE quindi siamo nell'ambito dei servizi di Padova diretto all'epoca dal colonnello all'epoca poi diventato generale Quintino Spella questo è tutto io ve lo sto facendo come un racconto ma è tutto provato cioè tutto provato documentalmente questa notizia perviene al centro SISDE di Padova il 15 di luglio e viene girata immediatamente alla direzione del SISDE all'epoca diretta dal generale Grassini che poi si scoprirà essere iscritto alla lista della P2 uno di quelli che partecipò anche a quel vertice del 5 agosto del 1980 per tutta risposta che cosa accade che due giorni dopo siamo al 15 di luglio quindi il centro SISDE è informato di questo fatto gravissimo di cui parleranno tutti i giornali del mondo il centro SISDE la direzione di Roma dà in carico ad Amos Spiazzi che era una sorta di collaboratore assolutamente illegale dei servizi e poi vi dirò perché era illegale di verificare che cosa stava succedendo per cui il Spiazzi parte va a Roma documentato dalla sua agenda che avete in atti e si incontra il 17 luglio con determinate persone e il 28 di luglio redige una relazione su quello che aveva fatto che rimane nei cassetti non viene portata a conoscenza di nessuno era una relazione adulcorata ma però si faceva riferimento in quella relazione ai gruppi NAR di Roma alla riunificazione di questi gruppi eversivi ad opera di un certo ciccio descrive una serie di situazioni che per un servizio di intelligence che mira a prevenire sono notizie d'oro sono notizie assolutamente importanti proprio alla fine ai fini della sicurezza e della prevenzione che cosa accade che il 5 di agosto il colonnello Spiazzi rende un'intervista a un giornalista che si chiama Nicotra un'intervista che viene pubblicata nella seconda metà nell'ultima decada di agosto 1980 e in questa intervista resa da un soggetto che per sua natura deve stare zitto perché appartiene ai servizi segreti no espone espone al pericolo e sostanzialmente condanna a morte Francesco Mangiamedi perché in questa intervista il colonnello Spiazzi riferisce sostanzialmente l'esito del colloquio o degli incontri il resoconto di quello che era successo il 17 luglio quindi viene pubblicata questa notizia e chi diciamo sa leggere tra le righe capisce quello che sta succedendo e capisce che Mangiamedi è un soggetto a rischio cioè un soggetto che può cedere rispetto alle conoscenze che sa questo è il contenuto di quella di quell'articolo che voi potete apprezzare e questo è tanto vero che Mangiamedi che cosa fa si reca immediatamente a Roma vende un orologio per per racinolare i soldi per il viaggio e si trasferisce a Cannata mi pare insomma vicino Roma e cerca di avere dei contatti per scagionarsi sostanzialmente cioè per riabilitare la sua figura rispetto a come era apparsa sul giornale nell'intervista fatta a Nicotra e rilasciata da Moschiazzi che lo dipingeva sostanzialmente come un infame e quindi un soggetto pericoloso ora Mangiamedi aveva ospitato a Tre Fontane Fioravanti e Mambro fino al 30 di luglio cioè in quei 15 giorni in cui avvengono altri incontri su cui diciamo non entro perché è stato più materia del processo mandante ma vi faccio un solo nome quella casa fu frequentata per tre giorni da Gaspare Cannizzo che è un soggetto o era un soggetto ampiamente legato alla massoneria alla massoneria anche con dei contatti diciamo di altra natura che stette con Fioravanti per tre giorni siccome nella sentenza che voi avete che ovviamente non potete utilizzare diciamo la matrice il movente la testa di questa strage è riconducibile alla loggia P2 vi dico che diciamo quell'incontro e quei tre giorni a Palermo di Cannizzo con Fioravanti e Mambro e Mangiameli hanno un sapore tutt'altro diverso rispetto a quello che vuol far trasparire l'appellato chiusa questa parentesi Mangiameli si precipita a Roma e a Roma viene invece ucciso da Fioravanti e Mambro che lo legano a un sacco gli mettono una pietra al collo e il cadavere affiorirà dopo due giorni questo è il quadro e allora come si fa a non dire che l'omicidio Mangiameli non è uno degli indizi portanti per la responsabilità di Mambro Fioravanti Ciavardini ed oggi di Cavallini rispetto a questa strage lo è e lo è perché vi abbiamo prodotto due documenti che sono due volantini apparsi immediatamente dopo l'uccisione di Mangiameli uno distribuito al funerale di Mangiameli dove si dice Mangiameli è l'85esima vittima della strage di Bologna questo volantino proviene da terza posizione e questo volantino fu redato da Enrico Tomaselli e e questo volantino lega lega l'uccisione di Mangiameli alla strage di Bologna perché ne fa l'86esima vittima il che vuol dire che il movente di quell'omicidio è direttamente riconducibile al 2 agosto del 1980 e Spiazzi sostanzialmente diciamo è quel servitore infedele che espose il Mangiameli c'è da chiedersi perché lo fece io vi do questi dati che sono diciamo che derivano dalla posizione Spella vi ho prodotto gli interrogatori di Spella e il confronto anche tra Spella e Tamburino perché quando diciamo venne fuori la vicenda del centro siste di Padova quindi siamo all'interno di servizi di sicurezza che sono legati a Roma che sono legati alla P2 nei loro vertici il Quintino Spella negò decisamente di aver mai avuto questa notizia prima della strage dal dottor Tamburino il punto è che il dottor Tamburino annotò in una agendina che vi ho prodotto e peccato che non si vede un particolare che è la graffetta ruginita cioè aveva con sé l'agendina redatta 40 anni prima quando noi la vedemmo rimanemmo di pietra con cui c'erano notati tutti gli incontri che lui aveva avuto con Quintino Spella a partire dal 10 di luglio e l'ultimo colloquio venne il 6 agosto 80 quindi ha affrettata fatta in cui addirittura Quintino Spella si ripresentò lui questa volta da Tamburino e disse ma se vuole possiamo collaborare no? e guardate cosa scrive il dottor Tamburino lo trovate in quegli atti che vi ho depositato dice manifestò molta perplessità rispetto a questa opera di collaborazione posteriore e tra l'altro che poi si verificò addirittura di pistante per quello che vi ho detto stamattina scrive abbiamo scrive le parole di Spella dice abbiamo sempre collaborato con voi peccato che tra una parentesi ci metta un sic di mezzo come per dire che cosa mi stai dicendo cioè mi hai preso in giro non hai fatto nulla hai consentito diciamo che la vicenda diciamo si evolvesse nei termini tragici in cui si è evolta quindi le sentenze che non vi leggo per non annoiarti ma che sono tutte riportate nella memoria dicono esattamente questo Mangiameli pagò con la vita il fatto di essersi in qualche maniera dissociato e rappresentava un evidente pericolo perché esposto all'agonia proprio da Spiazzi che pubblicò quella intervista attraverso le righe dell'Espresso andiamo avanti motivo d'appello attinente all'alibi questa è una prova diciamo è un tema importantissimo noi abbiamo sto ripercorrendo i motivi d'appello abbiamo parlato della pista palestinese poi di Sparti poi della Loretti poi di Mangiameli poi della ferita di Ciavardini a questo punto l'appellante affronta il tema dell'alibi lo affronta di petto e lo affronta però sostanzialmente con una sola argomentazione che è questa l'alibi lo conoscete nel senso che Mambro Fioravanti Ciavardini ed oggi anche Cavallini sebbene diciamo sostengono adesso in questo momento in questo periodo di aver passato la giornata insieme di essersi recati la mattina del 2 agosto a Padova e non a Bologna e in quel di Padova mentre Ciavardini Mambro Fioravanti rimasero a Prato della Valle diciamo lui si recò da un soggetto di cui non ha mai voluto fare il nome nemmeno a distanza oggi di 40 anni e poi spiegherà anche i motivi per fare filettare un'arma cioè l'operazione di filettatura di un'arma significa togliere le impronte digitali a quell'arma quindi non è che diciamo si allontanò per un motivo particolarmente nobile la filettatura quando si spara rimane una traccia e se si ha la fortuna di trovare il bossolo e l'arma attraverso delle analisi tecniche si può associare il proiettile alla pistola che lo ha sparato se tu la rifiletti questa operazione non la puoi più fare il che diciamo getta diciamo delle ombre forti su quello che accade il giorno prima ma comunque non voglio entrare in questo tema c'era questa necessità impellente di filettare l'arma a suo giudizio quindi sono a a Padova e l'argomento che usano è un argomento tutto sommato anche diciamo immediato si chiede il difensore come mai rispetto a un fatto così grave come la strage di Bologna questi soggetti non abbiano architettato in precedenza un alibi che reggesse a un'eventuale diciamo accusa di questo genere no? perché hanno dato sempre versioni diverse se non per il fatto che sono in buona fede e non in mala fede se fossero in mala fede avrebbero prima architettato messo a punto costruito un alibi che avrebbe potuto reggere a prova di bomba e in secondo luogo dice il difensore tutto sommato hanno poi sempre dichiarato la stessa cosa non ci sono tutte queste contraddizioni che la sentenza leoni fa emergere e quindi sostanzialmente è vero che furono a Padova ma è vero che furono a Padova solo perché diciamo soltanto degli sciocchi non si preparano un alibi che possa reggere e allora vediamo questo tema dell'alibi vi anticipo che anche su questo nulla di nuovo sotto il sole perché è una versione questa che è stata proposta nel processo di primo grado poi è stata modificata scusi nel processo a carico dei maggiorenni poi è stata riproposta nel processo nel processo Cialardini e viene riproposta tutto ad oggi senza però che ci sia un qualche cosa di diverso che possa cambiare il quadro che possa dirci ma si sono sbagliati i giudici precedenti la versione è sempre la stessa questo mi basterebbe per chiuderla qui ma voglio andare un po' a fondo rispetto a questa vicenda noi abbiamo in sequenza sull'alibi delle dichiarazioni che sono assolutamente divergenti dei tre dei quattro soggetti i tre già giudicati e cavallini Fioravanti inizialmente disse nei verbali del 7 febbraio 81 24 febbraio 25 maggio di essere sempre stato nella giornata del 2 agosto a Treviso a casa di Cavallini e di non essersi spostato da quella sede questa versione cambia nell'84 quando afferma per la prima volta di essersi recato a Padova la mattina del 2 agosto soltanto con Cavallini e Mambro e di essere tornato a Treviso per l'ora di pranzo il 14 dicembre 85 questa è una data importante perché qui gli viene contestato col mandato di cattura l'accusa della strage ritorna sui suoi passi e dice no sono stato a Treviso non era a Padova il 10 novembre 89 infine cambia di nuovo la versione e questa volta dice che erano si recano a Padova lui Cavallini e Ciavardini e la Mambro e accompagnarono Cavallini perché aveva delle cose sue da sbrigare allora questa versione diciamo non coincide con quella della Mambro che invece ha sempre sostanzialmente dichiarato che 4 erano a Padova salvo in un interrogatorio in cui quella del 2 agosto del 14 12 85 è lo stesso giorno in cui viene interrogato Fioravanti in cui anche lei dice non eravamo a Padova ma eravamo a Treviso cioè danno la stessa versione in quel giorno in cui vengono interrogati Gilberto Cavallini a sua volta dice e questa è forse l'unica che ha una sua diciamo linearità che la mattina del 2 agosto erano tutti e 4 insieme e la trascorsa la Padova dove lui aveva questa commissione da sbrigare non riferendo però mai il nome del soggetto da cui si recò allora che cosa qual è la notazione da fare per vedere dall'alto questa vicenda dell'alibi allora la vicenda dell'alibi si snoda in due sotto due diciamo grandi 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 protezioni che sono entrambe cadute e sono queste la prima che quella sostenuta nel processo a carica dei maggiorenni l'alibi doveva essere diciamo supportato dalle dichiarazioni della sbroia vacca questa è la prima no quelle dichiarazioni dovevano trovare riscontro nelle affermazioni della sbroia vacca che fu chiamata e fu sentita la sbroia vacca il fatto è che la sbroia vacca fu ritenuta inattendibile per questo motivo perché in un primo momento flavia sbroia vacca disse di conoscere fioravanti e mambro sotto i falsi nomi di chiare riccardo e che costoro erano stati ospiti a villorba di treviso cioè nella casa di cavallini e della sbroia vacca che era la sua compagna dell'epoca in epoca successiva al 2 agosto 80 queste furono le prime dichiarazioni cioè non li coprì per la giornata specifica del 2 agosto 80 cambiando versione cioè retrodatando la presenza di mambro e fioravanti a villorba soltanto in un secondo momento ma questo non bastò a convincere i giudici a dire no ma la sbroia vacca li copre perché mi devi spiegare per quale motivo per un tot lasso di tempo dici A e poi dici B senza spiegarmi perché cambi il B perché il cambiamento di versione ci può stare ma deve essere in qualche maniera supportato giustificato creduto altrimenti diciamo non 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 finisci per essere dichiarato inattendibile e guardate che cosa accade questa inattendibilità della sbroia vacca era conosciuta perché nella sentenza Albiani e nella sentenza Vecchio era stata ampiamente illustrata e allora nel 95 sentenza vecchia ricordatevi del 94 le date contano perché solo attraverso un'analisi esatta delle date noi riusciamo a intravedere quello che è successo in questa vicenda luglio 95 colpo di scena Fioravanti e Mambro vengono sentiti a Milano dal dottor Salvini ne ho fatto giacenno questa mattina in un interrogatorio senza la presenza del difensore nell'ambito dell'indagine che il dottor Salvini sta facendo a Milano e tirano fuori abbandonano la sbroia vacca e tirano fuori Carlo Di Giglio adesso vi porto dentro questa storia chi è Carlo Di Giglio e perché viene tirato fuori Carlo Di Giglio allora Carlo Di Giglio è un soggetto che è stato il braccio l'armiere del gruppo l'armiere e l'artificere della cellula veneziana di ordine nuovo che faceva capo a Carlo Maria Maggi condannato in via definitiva per la strage di piazza della loggia e quello che confezionò la bomba no? e soggetto legato all'intelligence statunitense per via ereditaria già il padre era un soggetto confidente delle strutture nato presenti in Veneto e diciamo Carlo Di Giglio che avvierà una collaborazione con il dottor Salvini assolutamente importante ma che ha una macchia proprio nel 2 agosto del 1980 ricostruirà tutte le vicende stragiste della destra eversiva è stato ritenuto credibile per certi aspetti poco credibile per altri aspetti ci sono le sentenze che parlano specie quella di Piazza Fontana la più recente bene facciamo riavvolgiamo il nastro a luglio il dottor Salvini chiama Mambre Fioravanti per chiedergli se loro conoscevano un tale zio Otto che era il soprannome di Di Giglio e Mambre Fioravanti dicono ma noi lo conosciamo questo zio Otto anzi diciamo la mattina del 2 agosto quando noi eravamo a Padova insieme a Cavallini che doveva far filettare un'arma lui si recò proprio da zio Otto e zio Otto è poi stato accertato che era Carlo Di Giglio quindi viene immessa questa bomba nel luglio del 1995 in pieno processo sulla strage in un interrogatorio gestito diciamo non con i crismi dell'interrogatorio perché erano ancora imputati non c'era ancora la sentenza della Cassazione che intervenne a novembre del 1995 e quindi arriva questo fulmine a scessereno ovviamente in Cassazione non entra questo verbale perché in Cassazione non possono entrare prove documentali o prove orali in pendenza di giudizio la sentenza era già stata depositata in Savecchio per cui rimane diciamo questo filone aperto cosa succede che Carlo Di Giglio viene sentito a conferma non subito viene sentito a conferma nel febbraio del 97 voi trovate tutti i verbali depositati da parte civile in primo grado ed effettivamente dice conferma questo questo dato sì io il 2 agosto vidi effettivamente o meglio prima dice che aveva avuto un appuntamento con Cavallini che gli lasciò l'arma a Venezia in una finestra del poligono di tiro dove lui avrebbe potuto prenderla e poi riconsegnarla attraverso omaggi e successivamente in altro interrogatorio reso davanti alla corte di Ciavardini nel processo Ciavardini disse addirittura di averlo visto di spalle sempre a Venezia però quindi l'alibi sbroia vacca diventa l'alibi di Giglio l'alibi di Giglio viene portato e discusso ampiamente nel processo Ciavardini che è cominciato dopo nel processo al minorenne che cominciò dopo il processo al maggiorenne e per cui si respirò a piene mani quella quella prova d'alibi ebbene quella prova d'alibi se voi andate a leggere anche la sentenza Massari che assolve la sentenza Massari la sentenza di primo grado assolve ma fa di quell'alibi una lo spezzetta sotto tutti i profili ma gettando dei grossi dubbi sull'attendibilità di Giglio e su quel giorno io mi chiedo anche perché diciamo Giglio che ha raccontato un sacco di cose introduce questo tema proprio il 2 agosto ricordiamoci che Giglio è quello che diciamo è certamente responsabile poi è morto quindi non ha risposto per la strage di piazza della loggia ma ancora prima per la strage di piazza Fontana quindi c'è una mano nera che lega questo personaggio agli eventi stragisti e noi abbiamo un buco qui lo dico ovviamente che riguarda proprio l'1 agosto noi non sappiamo che cosa è successo l'1 agosto quanto sta che questo incontro avviene il 2 agosto guarda caldo proprio il giorno in cui esplode la bomba comunque dicevo che quest'alibi è stato letteralmente diciamo fatto a pezzi nella sentenza Massari ma anche poi nelle sentenze successive perché Giglio cade in una serie di contraddizioni che sono dettagliatamente indicate nella sentenza ma soprattutto c'è un punto fermo di un dato logico insuperabile che è questo Giglio sta a Venezia i nostri imputati ci dicono che sono andati a Padova allora se l'urgenza era quella di riparare un'arma e portarla a Venezia per andare da Treviso a Venezia non si passa da Padova perché nel tragitto Venezia viene prima quindi non aveva alcun senso questo racconto fatto da Treviso a Padova dove vengono lasciati tre dopodiché Cavallini si è dovuto tornare da Giglio facendo diciamo un giro che logicamente non ci stava e per cui l'alibi non viene confermato questo per quello che riguarda i maggiori per quello che riguarda Cavallini Cavallini e qui entriamo ancora di più nel non conferma il racconto fatto da Fioravanti e Mambro e confermato da Giglio perché Cavallini dice non è vero che io sono andato da Giglio come dicono Mambro Fioravanti e lo stesso di Giglio io sono andato a Padova da un soggetto di cui non dico il nome non lo dirò mai e ve lo ha spiegato anche nella memoria che ha depositato lunedì scorso da un soggetto che era un contatto mio personale per fare filettare un'arma quindi è lo stesso Cavallini che non corrobora quell'alibi che era stato diciamo fatto a pezzi mi si passa il termine e che però non dice nulla su dove è stato il presidente lo interroga lo interroga insiste glielo dice anche il pubblico ministero questo è l'ultimo treno che hai per dire dove sei stato il 2 agosto perché perché come scrive la sentenza non dire dove sei stato equivale a dire non ho un alibi questo è il riflesso giuridico almeno questo è quello che è scritto in sentenza eppure Cavallini a tutt'oggi non ha inteso dire il nome della persona a cui si rivolse allora c'è da credere che questa persona questa persona non c'è e che il giro a Padova non c'è stato il 2 agosto il giro a Padova il 2 agosto non c'è stato perché quell'alibi è un alibi che non è stato confermato e badate bene che quell'alibi fa bene Cavallini cioè non è una scelta improvvida perché quell'alibi in qualche maniera lo risucchia perché se lui ammette di digilio l'alibi l'alibi è falso non ha è un qualche cosa che non è vero che non lo riguarda lo riguarda e come l'alibi un passo l'alibi lo riguarda e come non è un elemento neutro per Cavallini chiedo scusa alla corte bisogna trovare un passaggio importante che ho scritto ok va bene volevo dirvi questo che quell'alibi guarda caso abbraccia 5 persone che sono i tre Mambo Fioranti e Cavallini che sono stati condannati abbraccia Carlo Di Giglio che è l'autore riconosciuto delle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia e abbraccia anche Cavallini sebbene ha suo malgrado in qualche maniera ed è per questo che lui nega perché Cavallini era già stato condannato per il diritto di banda armata finalizzato anche all'esecuzione della strage questo è il discorso il discorso che oggi riguarda l'alibi possiamo dire che Cavallini abbia che la sua versione diciamo in qualche maniera sposti tutto quello che è stato è passato in giudicato ora io vi ho illustrato le dichiarazioni che ha fatto in primo grado in primo grado Cavallini non l'ha detto quindi ha smentito quell'alibi ma non ne ha portato nessun altro non poteva far altro che smentire quell'alibi per quello che ho detto prima quindi Cavallini non ha non ha alcun alibi non c'è una differenziazione della sua posizione e questo è il punto rispetto agli altri rispetto agli altri se sono stati sempre insieme in quel 2 agosto se nessuno si è allontanato anche per due o tre ore perché nessuno dice nessuno dice questo non ha e se il il Mambro, Fioravanti e Cevardini sono stati condannati in primo grado l'assenza di quell'alibi si riflette sulla posizione di Cavallini che non si dissocia sostanzialmente da quella versione resa e questo è il punto perché Cavallini dà la stessa versione esatta degli altri tre che è stata ritenuta diciamo non provata anzi diciamo affondata nella sentenza Massari e nelle sentenze a carico dei minori in cui diciamo l'alibi non ha non ha retto mi chiedo due minuti di pausa due minuti e poi proseguo va bene allora riprendiamo grazie grazie della pausa ho un attimo bisogno di poi anche la prossima la deciderai però più o meno l'ora lì insomma ci siamo non ha retto ecco quindi concludendo sull'alibi e tornando alle dichiarazioni di Cavallini che non fa questo nome ripeto non può farlo non può farlo perché diciamo la falsità delle dichiarazioni di Digilio si ripercuote non soltanto su Mambro e Fioravanti ma anche su chi era con loro e quindi su Cavallini che viene certamente coinvolto in questo dichiarato e per evitare questo effetto negativo lui non può fare altro che dire diciamo indicare o meglio dire non è vero quello che ha detto loro ma non vi dico dove sono andato è una condotta processuale obbligata e non diciamo data dalle spiegazioni che Cavallini ha dato dice io non vi dico il nome perché potrei essere smentito perché ci sono famiglie perché ci sono una serie di motivi che non c'entrano nulla lui non fa il nome perché non può farlo perché questo nome non c'è e ovviamente l'alibi di Giglio è un alibi bruciato andiamo avanti con i motivi d'appello a questo punto diciamo superati quelli che sono stati definiti i quattro chiodi dalla accusa di primo grado e cioè Sparti Loretti Mangiameli e Alibi i difensori inquadrano quella che è la figura di Cavallini nel tentativo di slegarlo da personaggi di un certo rilievo anzi di un assoluto rilievo che in qualche maniera hanno avuto un ruolo e una partecipazione anche se con sentenza assolutoria alla strage di Bologna e mi riferisco alla posizione di Massimiliano Facchini e di Sergio Piciafuoco allora prima di introdurre la figura di Massimiliano Facchini occorre dire questo proprio sotto il profilo diciamo storico della conoscenza degli accadimenti di quello che è accaduto Gilberto Cavallini nel 1977 si rese latitante con una rocambolesca fuga ed era detenuto per un omicidio commesso a Milano nel 1976 sempre nell'ambito della diciamo della lotta che c'era in quegli anni lui scappa Gilberto Cavallini è milanese di origine e attraverso delle amicizie comuni trova rifugio in Veneto e in particolare diciamo la persona che gli dà una mano durante la latitanza da quell'agosto del 1977 è questo Massimiliano Facchini Massimiliano Facchini non è un soggetto da poco perché Massimiliano Facchini è un autorevolissimo membro della cellula veneta padovana di ordine nuovo un soggetto che diciamo assai legato a Franco Freda e quello che ha preso le redini se non sbaglio ma qui poi mi correggeranno probabilmente le difensioni del parte civile della gestione di quella libreria a Padova dove diciamo era una libreria di facciata ma in realtà si covava all'interno tutta l'ideologia fascista e diciamo propria di ordine nuovo e ordine nuovo devo ricordare questo ordine nuovo era nel Veneto cappeggiato da Carlo Maria Maggi ordine nuovo è quella formazione versiva diciamo che è stata riconosciuta responsabile in alcune sue articolazioni chiaramente sia della strage di Piazza Fontana che della strage di Piazza della Loggia quindi siamo 69 74 e entriamo nel 77 che cosa fa Massimiliano Facchini come aiuta Gilberto Cavallini lo aiuta introducendolo nell'ambiente romano di costruiamo l'azione mi rendo conto che vi sto dando un sacco di nomi ma cerco di essere più chiaro possibile allora a Roma perché il filone è romano-veneto perché è dentro questo connubio etero guidato da soggetti più elevati che detenevano le leve finanziarie e anche le leve dei contatti con i sociali costruiamo l'azione è un movimento che su questo vi tratterò probabilmente la volta prossima che faceva capo a Paolo Signorelli a Fabio De Felice Aldo Semerari Sergio Calore Aleande e tanti altri che in qualche maniera diciamo aveva il compito di tenere insieme quantomeno sotto il profilo della strategia politica tutte quelle formazioni della destra estrema compresi NAR compreso quindi Fioravanti e Mambro che da quell'area vengono cioè Vardini che vengono da quell'area romana e diciamo questo movimento Costituzione era una rivista dietro questa rivista c'era l'aspetto diciamo lecito e poi l'aspetto invece illegale il doppio livello dove diciamo si ordivano attentati si ordiva un attacco centrale nei confronti delle istituzioni dello Stato che porterà a ben otto attentati tra il 78 e il 79 a Roma adesso ci arriviamo e Facchini inserisce Gilberto Cavallini a Roma in quell'ambiente cioè Cavallini comincia a fare la stola latitante protetto tra Roma e Venezia dove nel 79 poi entrerà in contatto stretto con Valerio Fioramanti Facchini fu imputato nel primo processo della strage e fu anche condannato in primo grado se non ricordo male nella sentenza Albiani la sentenza Albiani fu ribaltata in appello e la Cassazione poi annullò la sentenza di appello e rimandò al giudizio della corte d'appello di Bologna in sede di rinvio anche la posizione di Facchini quindi fino al 1994 sentenza vecchio Facchini era un imputato della strage di Bologna in quel lasso di tempo se mi seguite riuscite a capire c'erano un processo a Roma che riguardava proprio gli atti e gli attentati di Costruiamo l'azione e un ed un e il processo a Bologna in sede di rinvio nel processo romano dove Facchini diciamo rappresentava la parte veneta in questa struttura che era soltanto apparentemente frazionata ma in realtà rispondeva ad una unicità di matrice eversiva era accusato in particolare Facchini di avere trasportato l'esplosivo da Venezia dai depositi veneti dalla disponibilità veneta che diciamo il braccio veneto aveva a Roma esplosivo utilizzato in alcuni attentati vi faccio presente che nel processo romano furono accertati ben otto attentati 4 nel 78 e 4 nel 79 non diciamo uccisioni specifiche non eliminazione di un avversario politico ma gli attentati per loro natura possono colpire indiscriminatamente cioè chiunque si trovi di passaggio in quella zona che non c'entra nulla e che non è un avversario uno che è da demolire politicamente può essere ucciso questa è la la strage indiscriminata quella che c'è stata a Bologna ce n'è uno in particolare che è quello al Consiglio Superiore della Magistratura che avvenne nel maggio del 1979 che non provocò decine di morte solo perché il timer di quell'autovettura di quel congegno esplosivo era difettoso e non partì viene tutto stigmatizzato in maniera esemplare nella sentenza romana che in atti ebbene che cosa accade che in quel procedimento romano Facchini era imputato di associazione a delinquere banda armata e alcuni reati specifici tra cui il trasporto di armi la fornitura di armi per determinati attentati ed era imputato in quel processo perché c'erano alcuni soggetti che decisero di collaborare con la giustizia tra cui Aleandri soprattutto Paolo Aleandri che lo avevano indicato con questa specifica funzione di fornitore di esplosivi accade che cosa che in quel processo Facchini venne condannato per l'associazione sovversiva per l'associazione sovversiva e per la banda armata ma venne assolto dei reati fine e questa soluzione intervenne proprio mentre a Bologna c'era il processo d'appello di rinvio tant'è che nella sentenza del estensore vecchio la chiamo così perché ci capiamo meglio si dice noi prendiamo atto che la posizione di Facchini nei reati fine è stata definita con sentenza di assoluzione che passò in giudicato questo ci impedisce sostanzialmente di poter ritenere che Facchini sia colui che materialmente procurò l'esplosivo per la strage di Bologna questo è il ragionamento che fecero e quindi è un effetto preclusivo che ci arriva da una sentenza romana che si interviene nel processo bolognese e che determina questa soluzione e allora la difesa su questa soluzione dice che cosa volete ipotizzare di questi rapporti Cavallini Facchini quando Facchini è stato assolto c'è nessun collegamento il contatto Facchini Cavallini si interrompe nel 1979 quindi l'argomento utilizzato nella sentenza di un argomento che non trova riscontro nei procedimenti giudiziari bene detto questo che cosa c'è da dire perché il motivo d'appello non è seguibile perché la posizione di Facchini in qualche maniera va diciamo rivalutata perché come vi ho detto prima è vero che ci sono dei giudicati e i giudicati vanno vanno presi rispettati e diciamo non sono più toccabili quelle posizioni ma questi sono processi questi che riguardano il fatto che ci occupa che hanno una formazione probatoria progressiva così possiamo dire il tempo da un lato toglie perché tu intervieni dopo 40 anni e dopo 40 anni è difficile trovare le prove perché i testi non ci sono più perché i documenti vanno let perché diciamo c'è difficoltà ma il tempo aiuta anche il tempo aiuta perché ci consente di avere una una conoscenza approfondita di tutte le vicende esaminate dai vari tribunali e corti d'assise d'Italia che hanno affrontato questo tema a settori specifici cioè guardando quel singolo fatto ma se quel singolo fatto lo guardi con la distanza tale che ti dà una possibilità di visione di insieme e allora quegli stessi fatti assumono una colorazione diversa anche alla luce di indagini successive ed è quello che è successo in questo caso e per la specifica posizione di fatti e vi dico questo perché il processo romano si concluse diciamo certamente prima della sentenza vecchia quindi siamo nei primi anni 90 ma nel 95 se ne aprì un altro relativo a Piazza Fontana è l'indagine che ho citato prima del dottor Salvini e in quella indagine è emerso in maniera molto evidente che quel ruolo di Facchini che non fu ritenuto sufficiente per una condanna a Roma venne rivalutato e alimentato proprio dalle dichiarazioni di quel Carlo Di Giglio di cui abbiamo parlato fino adesso e cioè Carlo Di Giglio che era l'armiere era l'artificiere del gruppo ordinovista confermò quelle dichiarazioni accusatorie di Alejandro dicendo guardate che Facchini a questo ruolo porta perché sono io sostanzialmente che gestisco diciamo il patrimonio esplosivo e quindi esplosivistico e guardate che queste dichiarazioni che intervengono dal 95 in avanti che cosa ci dice lo stesso dottor Salvini nella sua ordinanza ci dice una cosa che se queste dichiarazioni fossero state acquisite prima della definizione di quei procedimenti probabilmente è chiaro che non può esprimere un giudizio di certezza anche perché le prove vanno valutate le dichiarazioni vanno riscontrate ma dice questo questa convergenza dichiarativa tra quello che diceva Leande e quello che ci dice oggi di Giglio dall'alto della sua intranetà in ordine nuovo veneto avrebbe potuto determinare un esito diverso del processo certamente romano ma forse anche bolognese vi leggo il passaggio è nell'ordinanza non fa un esplicito riferimento ma si capisce chiaramente a che cosa vuole riferirsi il dottor Seguini eccolo qui ve l'ho allegato a pagina nell'allegato 152 questo passaggio la pagina 36 dell'ordinanza 18 marzo 95 si legge che nel corso di questa istruttoria vi risparmio tutte le dichiarazioni tale indicazioni cioè quelle di Aleandri che vi ho detto prima sul ruolo di Facchini confermate per quanto ora possibile anche dalle perizie trovano ora pieno riscontro le dichiarazioni di Carlo Di Giglio in questa istruttoria a partire dall'ottobre del 1993 e diciamo entra nel dettaglio a un certo punto dice e conclude è lescito presumere che se le nuove dichiarazioni fossero già state disponibili nell'ambito di tali procedimenti leggi Roma e Bologna l'esito dei dibattimenti sarebbe stato probabilmente diverso questo è quello che ci dice e allora e allora non è vero che la posizione di Facchini è una posizione diciamo così irrilevante rispetto a Gilberto Cavallini perché perché nel procedimento romano anche Cavallini fu condannato per per l'associazione sovversiva cioè nella sentenza di Costruiamo l'azione erano imputati insieme Facchini e Cavallini e l'estensione temporale di quei fatti arriva fino al dicembre 1979 e quell'associazione aveva come finalità quella di attentare di fare degli attentati di mettere in a rischio era una finalità chiaramente versiva quindi avevano esposizioni esplosivi e nella progettazione dell'attività c'erano anche non soltanto attività di autofinanziamento c'erano delle rapine ma anche l'esecuzione di attentati tanto è che gli attentati sono 8 e quindi quantomeno fino al 79 stiamo a quella sentenza Facchini e Cavallini stanno insieme perché sono condannati insieme ma ce n'è un'altra d'indagine che ci consente oggi con questa lettura a distanza di inquadrare bene i fatti e mi riferisco al procedimento veneziano questa volta su Ordine Nuovo Veneto quindi su Carlo Maria Maggi che è il capo di tutti cosiddetto procedimento del poligono di tiro in quel procedimento si chiama poligono di tiro perché poi Di Giglio lavorava proprio nel poligono di tiro e in quella struttura Cavallini andava anche a sparare a esercitarsi non ha dati gli rapporti in quel procedimento guardate l'estensione temporale dei fatti contestati arriva al 1982 seguitemi in questo quindi abbiamo fino al 79 un giudicato di Roma e fino all'82 un giudicato Veneto in cui si dice in un capo di imputazione in particolare che Maggi e Di Giglio hanno fornito a Cavallini e alla sua banda che nel frattempo aveva messo in piedi con Fioravanti e la compagnia cantante quantomeno fino all'81 fino al resto di Fioravanti ma poi proseguì anche dopo le armi cioè quella struttura fino al 1982 fornì armi a Cavallini e uno mi potrebbe dire ma fornisce solo armi gli esplosivi dove sono non no c'è un fatto che parti proprio dalle indagini che stava facendo l'autorità giudiziare bolognese che nel 1982 un tale Bressan fu arrestato con delle armi ma soprattutto con alcuni detonatori e il detonatore richiama certamente ad un ad un ordigno esplosivo ed un biglietto in questo biglietto che era scritto sulla carta intestata di Carlo Maria Maggi che era un medico veneziano un dentista quindi dottor Carlo Maria Maggi c'è scritto che i detonatori erano destinati all'amico G.C. ossia Gilberto Cavallini questo è tutto scritto in sentenze cioè sembra una storia veramente assurda ma purtroppo questo è tutto scritto nelle sentenze passate in giudicato e quindi noi che cosa possiamo dire rispetto a Cavallini e rispetto al suo contatto fortissimo con Massimiliano Facchini e il gruppo Veneto che innanzitutto non si è interrotto nel 79 ma è proseguito fino all'82 secondariamente che i contatti diciamo che la difesa vuole smiruire non sono affatto insignificanti e tenete presente che l'incrocio di questi provvedimenti giudiziari che sono Roma da un lato Venezia dall'altro portano a ritenere davvero che quell'affermazione fatta nelle sentenze che legano a doppio filo la posizione di Facchini cioè Cavallini rappresentò proprio lo snodo attraverso il quale Facchini e quindi diciamo il gruppo di ordine Nuovo Veneto era collegato alla banda Cavallini di cui faceva parte Cavallini Fioravanti Mambro Ciavardini e quant'altro voi dovete leggere a mio avviso voi dovete insomma potete leggere questi provvedimenti con un'ottica con un occhio che riguarda tutti insieme come guardare un quadro da lontano lo vedi bene se ti avvicini di solo il particolare ma non vedi l'insieme che il quadro restituisce ovviamente non è che diciamo non occorre stare agganciati rigorosamente a delle emergenze probatorie ma le emergenze probatorie in questo caso sono date da quelle sentenze e da quei documenti che quelle sentenze richiamano e da quelle testimonianze che quelle sentenze richiamano che ci consentono di dire che Facchini non era affatto un personaggio di secondo ordine rispetto ai suoi rapporti con Cavallini e che quello che ci dice Cavallini che si interromperò nel 1979 diciamo fa a pugni con la continuità del rapporto che lui ebbe con Maggi e Digilio fino al 1982 si badi che l'ultima sentenza che condanna Cavallini se voi andate a vedere il certificato penale risale proprio a questi fatti e alla fornitura di armi da Maggi di Giglio a Cavallini ha preso dieci anni nel 2000 nel 2000 cioè quindi a distanza di molti anni perché per l'appunto lo sviluppo e l'analisi dei fatti è una formazione probatoria in work in progress possiamo dire così a noi spetta soltanto non solo rimettere insieme i pezzi ma diciamo portare anche poi gli elementi forti nuovi che anche in questo caso ci sono e quali sono questi elementi forti e nuovi che che intervengono anche in questo processo vabbè uno l'abbiamo sentita questa mattina quella famosa telefonata fu intercettata nella casa di Carlo Maria Maggi 18 gennaio 1996 è stata per molto tempo un po' dimenticata perché era un'indagine milanese su piazza Fontana una delle tante indagini e la casa di Maggi fu intercettata per lunghissimo tempo e quella conversazione l'abbiamo ascoltata è stata una conversazione scoperta dalle parti civili segnalata dalle parti civili nel processo mandanti che noi abbiamo in qualche maniera recuperato e poi portato anche all'attenzione di questa corte che cosa si dice questo è un fatto nuovo siamo nel 96 quindi siamo molto lontani diciamo dal 1982 ma Carlo Maria Maggi che è soggetto diciamo dello spessore che vi ho indicato e che potete trovare nelle varie sentenze riferisce due cose fondamentali uno vabbè il padre sto aviere e riguarda un altro processo e non ci entriamo ma a un certo punto quando alla domanda del figlio gli dice ma mamma e Fioravanti sono stati loro gli autori di Bologna dice sì sono stati sicuramente loro la risposta è chiara l'abbiamo sentita la potete risentire ma dice anche un'altra cosa fa riferimento a un dato a un movente economico intanto lui ha i soldi ora io non voglio far entrare in questo processo tutto quello che è stato l'oggetto dell'indagine mandanti ma c'è la sentenza che in qualche maniera può essere letta e diciamo vi dico soltanto questo che in quella indagine sono stati trovati due documenti fondamentali uno è il documento Bologna che era stato sequestrato a Geli nel 1982 all'atto dell'arresto in Svizzera era un foglietto quadrato con una dicitura Bologna e un numero di conto corrente e all'interno una serie di flussi finanziari che sono stati decifrati e che diciamo ci hanno consentito di sostenere che quello era la prova contabile della strage per una serie di elementi che sono indicati in sentenza e soprattutto un altro documento fondamentale che si lega al documento Bologna che è il documento Artigli lo troverete in quella sentenza in cui Geli o meglio il difensore di Geli nel 1987 quando viene riarrestato in Svizzera perché lui fu arrestato nel 1982 poi ci fu quell'evasione spettacolare nell'elicottero si è resucendo di Bosco per altri anni ma venne ripreso nel 1987 bene si recò il suo difensore nell'ufficio del dirigente della direzione centrale di polizia di prevenzione che era il vecchio ufficio affari riservati fondamentalmente e in cui disse questo ufficio mi può aiutare molto e se non lo fa il mio cliente cioè di Ciogelli tirerà fuori quei pochi artigli che gli sono rimasti facendo riferimento ai documenti che gli furono sequestrati nell'82 nell'82 tra i documenti sequestrati c'era il documento per l'appunto Bologna ma entriamo ve lo voglio soltanto dire perché è un dato che può essere di vostra conoscenza perché è contenuto in quella sentenza e allora questa conversazione che ci dice sono stati certamente loro e intanto lui e i soldi introduce un tema che è quello anche del movente non soltanto eversivo certamente eversivo e certamente nel disegno eterodiretto dei soggetti che vanno alle leve finanziarie che a quello miravano che a un fine eversivo e miravano ma a questo si aggiunge anche un tema economico non dimentichiamo una cosa che all'indomani dell'omicidio Amato che avvenne il 23 giugno 1980 qui sotto abbiamo un'aula lui dedicata come abbiamo un'aula dedicata al dottor Occorsio e un'aula ad Alessandrini quindi tutte vittime degli anni di piombo il 23 giugno avviene questo omicidio il 26 giugno Cavallini versa la somma di 16 milioni di lire sul conto intestato a Flavia Sbroia Vacca che era la sua compagna dell'epoca è un dato che non è stato spiegato mai da quale parte provenisse questa somma di denaro no ma il dato contestuale il dato temporale è un dato che la dice lunga su un omicidio effettuato il 23 giugno 80 poi vedremo per quali finalità fu fatto un omicidio e il e il versamento massimiliano facchini è un soggetto e qui avete le dichiarazioni di vinci guerra resa in primo grado che è legato a piene mani con i servizi deviati tanto per stare in tema vi ho riportato nella memoria tutti i passaggi importanti di quello che è emerso in primo grado ma e quindi non ve lo sto a rileggere ma diciamo basta richiamare dichiarazioni di vinci guerra sul punto e e i legami tra Facchini e il capitano la Bruna anche se sono risalenti mi ho anche portato la deposizione proprio del capitano del capitano la Bruna ecco da diciamo da questa sfaccettatura particolare di massimiliano facchini che un lato era in traneo alla destra avversiva condanna Roma per l'associazione sovversiva dall'altro c'era questo legame coi servizi diciamo questa cosa noi la ritroviamo anche in Gilberto Cavallini lui si è lamentato molto Gilberto Cavallini nell'ultimo scritto che ha fatto dicendo io sono stanco perché mi chiamate il figlio putativo di Cavallini di Facchini vuole staccarsi a tutti è una presenza ingombrante si capisce lontano meglio che è una presenza ingombrante eppure diciamo quello che vi ho appena detto dimostra che questo distacco non c'è stato ma soprattutto anche Cavallini al pari di Facchini aveva i suoi legami con strutture dell'intelligence in questo caso assolutamente occulta e in particolare con l'anello in primo grado è stata portata all'attenzione la disponibilità di due numeri telefonici che erano inseriti nell'agenda di Cavallini ed erano i numeri 342 111 342 121 che erano linee riservate abbiamo fatto un'indagine apposta per capire a quali strutture si riferissero e siamo arrivati alla conclusione ma è provato la redicazione di Carelli e dalla disposizione di Sgarangella del capitano Sgarangella che fece queste indagini e che sono in atti che questi due numeri erano appoggiati alla centrale di Via Mantegna la centrale di Via Mantegna era una centrale della SIP di Milano ma che aveva queste due linee riservate quindi non intercettabili e non accessibili a terzi dove diciamo si recava spesso giornalmente secondo la relazione del maresciallo Galli che vi ho prodotto tal Adalberto Titta Adalberto Titta è il capo la figura più importante di una struttura culta che è passata alla storia con il nome dell'anello e che aveva comunque strettissimi rapporti col servizio militare questo di Alberto Titta tanto da essere cooptato per alcune interventi in particolare il rilascio dell'assessore Cirillo nel 1981 dove Titta fu cooptato per conto dei del sismi ecco dentro questa centrale perché è importante questa centrale perché dentro questa centrale Titta aveva l'accesso perché lì ci lavorava il fratello e la cognata la Piras e l'utilizzo di questi numeri era un utilizzo assolutamente sicuro proprio perché erano numeri riservati di una centrale dove si seguivano anche le utenze e le linee della Nato quindi era una centrale che aveva una sua particolare importanza avere a disposizione questi due numeri è un segno insieme ad altri del fatto che anche Gilberto Cavallini in qualche maniera diciamo si appoggiasse o potesse appoggiarsi a strutture a strutture occulte a strutture deviate a strutture istituzionali deviate è tutto scritto alle pagine qui 144 145 ma questa è una memoria che ho rifatto insieme a questo ma ne parleremo la volta prossima ci sono tutti gli elementi che ha indicato il giudice di primo grado cioè la mezza banconota a mille lire e altri elementi su cui mi soffermerò nella posizione specifica proprio del 2 agosto altro motivo d'appello detto 4 e mezza 5 alle 5 chiudiamo eh? massimo va bene tratto solo la figura di pisciafuoco allora va bene i rapporti io mi affido a quelli che sono i motivi di appello non entro entro nello specifico finché riesco ad entrare nello specifico comunque pisciafuoco vi dico intanto questo Sergio Pisciafuoco è un altro soggetto che era alla stazione di Bologna era al terzo binario rimase ferito e andò in ospedale si presentò con un documento falso a nome Vailati Vailati era un passepartout sostanzialmente era un documento che consentiva il passaggio era un documento protetto ma altamente protetto dopo arriveremo a capire il perché ecco Sergio Pisciafuoco diciamo è importante perché il nome di Sergio Pisciafuoco è un nome che viene trovato nell'agenda di Gilberto Cavallini e Sergio Pisciafuoco come ho detto era a Bologna il 2 agosto venne processato condannato per due volte e assolto in sede di rinvio con assenza 90 diciamo la cui lettura è interessante perché diciamo Sergio Pisciafuoco fu assolto per questo motivo viene assolto dalla strage di Bologna perché non sono provati i suoi legami con la destra eversiva questa fu la motivazione della sentenza dei giudici fiorentini fatto sta che era certamente a Bologna e che il suo nome è inserito nell'agenda di Cavallini l'agenda che gli fu sequestrata è 1983 questo è importante adesso ci arriviamo perché si lamenta la difesa qui devo dire che il motivo d'appello dice delle cose anche vere ma diciamo lo sviamento in cui è in corso il giudice primo grado è legato all'assenza di una conoscenza fondamentale perché nel motivo d'appello si fa riferimento a Sergio Pisciafuoco come collegato ha un nome che è tal Marcello Barbazza che diciamo si era paventato essere un nome di copertura di un agente dei servizi questo era il quadro dice invece il difensore ma guardate che Marcello Barbazza esiste davvero un soggetto vivo e vegeto che diciamo purtroppo è deceduto ma non c'è nessun mistero in questo in questo nome allora detto questo non è che poi si può prendere e buttare a mare la figura di Pisciafuoco e i suoi rapporti con Gilberto Cavallini perché Sergio Pisciafuoco era un soggetto certamente in traneo invece alla destra eversiva e il dato di riferimento importante che diciamo il motivo d'appello mira a sminuire dicendo guardate sono sbagliati grossolanamente su Marcello Barbazza non copre anche questi accertamenti allora il il nome di Sergio Pisciafuoco ci riporta innanzitutto a questo Sergio Pisciafuoco fu tratto fu curato all'ospedale di Bologna con un nome con un documento di identità che è un documento di identità che ricava il nome di Vailati perché dico che questo è un documento importante che inserisce Pisciafuoco in una in una serie di legami con la destra eversiva ma anche soprattutto con 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 i servizi lo dico perché questo nominativo di Vailati era un nominativo utilizzato anche da un altro soggetto inserito nelle strutture della destra eversiva e mi riferisco a un tale che si chiama Alberto Volo Alberto Volo era un po' il padrino di quel Francesco Mangiomeli di cui abbiamo parlato prima ebbene anche Alberto Volo aveva a disposizione un documento di identità a nome Vailati e diciamo questa coincidenza che Pisciafuoco da un lato avesse il nominativo di Vailati e Volo avesse un documento che riportava lo stesso nominativo o si ritiene essere una casualità oppure diciamo il il dato non è di poco conto e non è un fatto casuale perché con quel documento Sergio Pisciafuoco che prima nel 1981 fu fatto sostanzialmente passare a un controllo dei presidi Merano se non va derrata e quindi era come se fosse un documento di copertura che chi leggeva sapeva a che cosa si riferisse e questo dato è un dato che viene detto da Alberto Volo che non soltanto era appartenente a terza posizione vicinissimo a Francesco Mangiameli ma per sua stessa missione era uno soggetto appartenente a Gladio quindi non era proprio una persona che aveva un'unica appartenenza aveva una doppia appartenenza esattamente come Sergio Pisciafuoco a Sergio Pisciafuoco utilizzò questa carta entità vai lati in più soggiorni alberghieri e in epoca prossima alla strage questo documento ha una particolarità oltre ad essere utilizzato anche da Alberto Volo veniva da un da uno stock era un documento ovviamente falsificato ma il i moduli utilizzati erano moduli che erano stati rubati alcuni anni prima e ricettati da un soggetto tale Guelfo Osmani che è risultato essere un collaboratore del servizio segreto militare questo Osmani che veniva utilizzato dal servizio segreto militare era talmente bravo a falsificare dei documenti che per la sua arte venne soprannominato Raffaello addirittura e allora il documento vai lati è un documento che ha una provenienza marchiata dai servizi deviati è un documento che emana piccia fuoco è un documento che riporta la stessa generalità di altro soggetto legato a Gladio e legato a terza posizione che è Alberto Volo questo ci fa riferire ci fa diciamo pensare fondatamente che il piccia fuoco non è un soggetto che non c'entra nulla con la destra versiva non è quel soggetto ma è un soggetto che è a piene mani dentro questa struttura tant'è che vi è un ulteriore elemento che sono dei documenti che vennero sequestrati allo stesso piccia fuoco si tratta di un documento adesso arrivo perché qui la storia è un po' complicata un altro documento che riportava eccolo qui diciamo una prova che non fu valorizzata nel gesto d'appello era un passaporto sempre nella disponibilità di piccia fuoco era un passaporto che aveva un numero seriale corrispondente al passaporto autentico di un esponente denar tal Riccardo Brugia che è stato condannato per banda armata in concorso proprio con Cavallini e Francesca Mambro dalla corte d'assistica d'appello di Roma ebbene questo documento che reca questo numero seriale riportato a Riccardo Brugia e trovato in mano a piccia fuoco ovviamente crea un link forte tra piccia fuoco e chi Brugia e i sodali di Brugia e cioè lo stesso Gilberto Cavallini e Francesca Mambro che erano componenti di quella stessa banda e allora noi oggi possiamo dire che piccia fuoco è un soggetto che non è legato alla destra eversiva anche in forza di ciò che emerge dai suoi documenti Vailati Brugia e Vailati e Brugia c'è un altro documento ancora che vi ho prodotto che abbiamo acquisito questi servizi in cui Sergio Piccia Fuoco veniva definito all'epoca un membro irriducibile di terza posizione che è la stessa formazione diciamo a cui appartenevano alcuni soggetti poi transitati in enarma che comunque navigava e viaggiava all'interno di quella galassia di destra diciamo che trovava in una unica etero direzione la sua poi ragione operativa e quindi questi elementi rappresentati da questi documenti ci possono dire oggi che Piccia Fuoco era certamente un soggetto inserito in questi ambienti e allora l'annotazione del numero di Piccia Fuoco nell'agenda di Cavallini che significato ha che cosa possiamo dire possiamo credere che sia una notazione fatta per caso oppure diciamo è una notazione che ha una sua ragione d'essere in particolare in quel ruolo che Cavallini si è sempre riconosciuto lo ha riconosciuto lui stesso se non va errato di assistenza a coloro che in qualche maniera venivano coinvolti in operazioni giudiziarie e avevano bisogno di assistenza c'è tutta una serie di nomi tra cui quello di di Sergio Piccia Fuoco che diciamo destano forti sospetti sul fatto che diciamo quella notazione non fosse una notazione casuale tenete presente ma questo non so se sia stato allegato agli altri del primo grado che quando Cavallini fu interrogato per la prima volta per i fatti di Bologna si avvasse la facoltà di non rispondere e disse solo una cosa il numero di Sergio Piccia Fuoco nella mia agenda non so come c'è finito non so chi l'ha messo e comunque non c'entro niente con i fatti di Bologna però forse questo è un dato che non è è un dato di interrogatorio che non è nel processo allora quindi e concludo su Piccia Fuoco è vero che il nominativo Marcello Barbassa non dà queste diciamo garanzie di di soggetto in qualche maniera appartenente ai servizi ma questo fatto non toglie tutto quello che vi ho detto fino adesso sui legami che il Piccia Fuoco aveva con la destra eversiva e con le strutture deviate per via dei documenti vai lati e per il documento brucia io avrei concluso per oggi perché sono arrivato veramente presidente